Ben trovati, ben trovati ancora in diretta straordinaria su Telequattro. Vedete il titolo del giorno, obbligo di mascherine e guanti per fare la spesa, ovviamente l'obbligo in realtà è quello di coprirsi il naso e la bocca, ovvero chi non ha una mascherina a disposizione in questo momento può utilizzare anche altri presidi, una sciarpa, come ha spiegato il Presidente della Regione Fedriga, un copricollo in attesa naturalmente che vi siano a disposizione per tutti quelle inviate dalla Regione. Si sta procedendo con il porta a porta della protezione civile, proprio in questi giorni, come abbiamo documentato in più occasioni. Allora, tra qualche istante, anzi siamo quasi pronti, adesso ci posizioniamo, saremo in collegamento, anzi siamo in collegamento in videochiamata con il questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, che ringraziamo innanzitutto per essere in collegamento con noi, con Telequattro, in questa giornata particolare, perché oggi, 4 di aprile, ricorrono i sei mesi dalla scomparsa, dalla barbara uccisione dei due agenti di polizia a Trieste, Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Quindi innanzitutto il nostro pensiero, il pensiero di Telequattro, va a loro. Questore, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno stabile, grazie a voi. Quest'ora abbiamo voluto raccogliere questa preghiera che ci è arrivata direttamente proprio dai telespettatori, perché quella è una data tragica, ma è una data che è impressa nella memoria di tutti a Trieste, non solo nelle forze di polizia, non solo nelle forze dell'ordine, ma in tutta la città. E quindi, come dire, il ricordo di quella tragedia terribile, comunque vivo, e sono proprio i nostri telespettatori, i cittadini triestini, a voler ricordare, a voler comunque dare un tributo, anche sei mesi dopo, a quei due straordinari ragazzi. Sì, io non posso che ringraziare questi attestati continui che noi riceviamo e oggi chiaramente alle 16.53 per noi l'orologio segnerà un momento importante che ci riaprirà una ferita profonda che rimane, come ha detto lei, nella memoria dei cittadini di Trieste, che non mancano occasione di dimostrare questa loro vicinanza. Devo dire che questi giorni, molto particolari per la nostra comunità, registriamo tantissima vicinanza che si è trasformata in gesti di attenzione nei confronti dei miei ragazzi, delle mie ragazze che lavorano, perché abbiamo tanti attestati concreti di vicinanza su azioni, aiuti in forma proprio concreta. Tra l'altro è arrivata anche a noi, so che c'è stato già un ringraziamento da parte di molti agenti di polizia, questa sorta di poesia di ringraziamento alle forze di polizia scritta da una giovane, giovanissima, una bambina triestina che dice io sono convinta che i supereroi sono i poliziotti, loro che con il loro duro lavoro stanno per le strade a controllare che nessuno trasgredisca le regole, loro che accasano padri, madri, mogli e figli che trascunerano per il bene di noi cittadini, che il più delle volte non abbiamo rispetto per la loro divisa, insomma che poi dice mettono a rischio la loro vita ogni giorno, grazie veramente, grazie per esserci, io da grande voglio diventare come voi una brava poliziotta, vi voglio bene a tutti. Penso che queste parole semplici colpiscano però a pieno il significato di fare l'agente della polizia e vale sia per il discorso di difesa diciamo delle persone, per fatti più complessi che è affrontato ogni giorno, piuttosto che per l'attuale emergenza in cui bisogna sostanzialmente vigilare il rispetto delle regole. Sì, obiettivamente sono parole che toccano, una bambina poi parla in maniera schietta, parla con il cuore, ha pochi filtri, quindi nella sua semplicità raccoglie dei sentimenti che sono di incoraggiamento per la nostra comunità, per me e per tutte le forze dell'ordine che mi sento anche di rappresentare come autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il nostro impegno e il motto della Polizia di Stato è esserci sempre. In questa letterina la ragazza fa una sintesi di quella che è l'attività, che è il nostro core business contro la criminalità. In questo momento la nostra organizzazione, la nostra amministrazione è chiamata a fare un compito delicato che è quello lì dell'osservanza di regole che possono apparire ad alcuni, anche in popolari. Mi rendo conto che rappresentare coloro i quali fanno rispettare queste regole in alcuni momenti potrebbe apparire scomodo per chi subisce il controllo. Devo però dire allo stesso tempo che lavoro in una città, in un territorio, con un altissimo indice di rispetto delle regole, lei pensi che sui numerosissimi controlli, ormai stiamo andando verso i 20 mila controlli, noi registriamo un indice di sanzioni pari sotto al 5% per quanto riguarda i soggetti individuali e per quanto riguarda gli esercizi commerciali, 0,25. Quindi effettivamente la nostra attività non conosce quell'aspetto più grave che l'aspetto sanzionatorio. Tornando alla bambina, la ringraziamo per essere stato un po' il ventrilo di coloro i quali ci vedono con favore perché è innegabile che la considerazione delle persone ci fa un po' anche da benzina. Tra l'altro, l'altro giorno, sempre in una videochiamata analoga con il prefetto Valenti, abbiamo di fatto anticipato di qualche ora il fatto che ci sarebbero stati controlli, diciamo così, più stretti, più severi, anche a seguito di ordinanze come quella del Presidente Fedriga che poi è arrivata nella serata di ieri circa il tema dei presidi che le persone debbono usare, in particolare quando fanno la spesa. C'è stato quindi un ulteriore rafforzamento, c'è stata la decisione di mettere in campo ulteriori uomini? Sì, noi stiamo dando tutto quello che possiamo fare, la nostra proiezione soprattutto esterna perché i nostri uffici all'interno, pensi l'ufficio immigrazione, in questo momento va a scartamento ridotto, pensi l'ufficio passaporti. Per rispondere alla sua domanda stiamo facendo un abito più su misura, intendo dire, richiamando giustamente a lei l'ultima ordinanza del Presidente Fedriga, avvicinandosi al periodo pasquale che innegabilmente invita le persone ad uscire, un meteo molto favorevole come in questi giorni qui, e il fatto pure che bisogna dirlo, la durata di queste misure porta un po' di insofferenza da parte delle persone, ha portato noi ad incrementare lo sforzo che posso quantificare sul 20% circa in più in proiezione verso la Pasqua ed un adattamento, quindi voglio dire modularlo meglio per quelli che possono essere i desideri di spostamento per la Pasqua, che ahimè sono frustrati e quindi mi trovo a ripetere anche io quasi pappagallescamente l'impopolare restate a casa, però se le autorità tecnico-scientifiche dicono queste, noi faremo rispettare queste regole anche con le sanzioni che sono previste. Certo, tra l'altro poi abbiamo visto come Trieste ci siano sostanzialmente pochi casi, lei li ha ribadito percentualmente, purtroppo abbiamo visto scene anche in città come Genova che ieri hanno fatto un po' impressione, quindi bisogna mantenere la barra dritta su questo fronte. Ecco, so che voi naturalmente vi state occupando delle persone che circolano, ma anche chiaramente di tutelare i vostri uomini perché loro stessi, un po' come in secondo grado rispetto ai medici, ma subito dopo, se vi si ammalano tot poliziotti poi diventa un problema, quindi come dire, anche loro sono in prima linea e devono restare operativi e quindi vanno anche tutelati come si deve. Io raccolgo il suo Aussist per tributare il massimo rispetto a chi veramente sta in prima linea, quindi ai medici e ai sanitari, perché poi sono quelle attività che emergono nel quotidiano, ma che emergono poi nella straordinarietà. Giustamente anche la nostra struttura va preservata, il mio primo mandato è quello lì di preservare l'efficacia di questa struttura, perché lei immagini se questa struttura andasse in default, sia per quella attività contro il crimine che dobbiamo fare tutti i giorni, ma per questa attività di vigilanza che viene spedita quotidianamente, la struttura va preservata al massimo. Quindi il nostro personale è stato formato sul piano teorico in maniera molto tempestiva, proprio all'inizio dell'emergenza Covid. Abbiamo distribuito il materiale per i dispositivi, abbiamo ridisegnato i protocolli per i controlli che devono essere effettuati sulle persone, su particolari categorie come possono essere i migranti, cioè sulle persone che non hanno un percorso sanitario noto. Per il momento, incrociando le dita, stiamo riuscendo a preservare la nostra struttura e quindi l'efficacia di questa struttura si riflette e fa il combinato disposto con la grande disciplina dei triestini che si sta distinguendo, devo dire, obiettivamente per il rispetto delle regole. Ecco, se non sbaglio, una settimana fa circa con Ferdinando Avarino a Ring, lei aveva parlato del fatto che in questo momento in cui comunque quasi tutti restano a casa c'è una situazione di reati sostanzialmente in calo abbastanza tranquilla, c'è un po' di preoccupazione, siamo stati anche contattati per esempio da associazioni come il GOAP che lotta contro le violenze sulle donne, in particolare per casi di violenza domestica che ovviamente c'è una preoccupazione perché tutti devono rimanere a casa, quindi anche situazioni un po' più complicate possono avere delle devianze o comunque delle situazioni da tenere sotto controllo. Da questo punto di vista può darci un'idea di com'è la situazione? Sì, le offro un dato anzitutto, noi abbiamo una decrescita dei reati in media del 60% e quindi diciamo ammesso e non concesso di doversi compiacere, perché non è il caso di compiacersi in un periodo così triste, questo è il dato secco. La nostra città registra un calo dei reati del 60-65%, un aumento circa delle chiamate al numero di emergenza nostro del 7-8%, giusto per offrirle un contributo di conoscenza. Molte, molte, molte chiamate sono di cittadini che segnalano situazioni al limite per quanto riguarda il mancato rispetto, perché uno avrebbe potuto pensare meno reati, meno chiamate, invece questo non è, chiamano molti cittadini che segnalano situazioni di assembramento o di potenziale assembramento dove poi noi andiamo ad effettuare dei controlli più specifici. Per quanto riguarda il tema interessantissimo della cattività, nel senso che i soggetti una volta che si ritrovano all'interno dell'abitazione possono maturare degli atteggiamenti più aggressivi, in particolare i soggetti che si sono distinti per recidiva, lei ha parlato delle fasce deboli della violenza verso le donne, noi abbiamo organizzato anche in questo calzo un protocollo che preveda una forma di follow up, cioè siamo noi che in qualche maniera avviciniamo, richiamiamo con le dovute cautele le persone che hanno subito in un recente passato episodi di violenza, perché possiamo anche capire che in questa fase, essendo tutti a casa, ci possa essere anche difficoltà a contattarci. In tal senso è stata rilanciata ed è stata ampliata la potenzialità dell'applicativo che si chiama YouPol, che serve proprio per segnalare alla Polizia di Stato situazioni in campo di droga, di bullismo ed è stata allargata anche a questo tipo di reati qui. Quindi stiamo facendo in modo di agevolare al massimo la raggiungibilità della nostra amministrazione da parte di quei soggetti che dovessero avere bisogno di aiuto. Quindi una sorta di rete antiviolenza già allestita, diciamo così. Quanto al dato del 60% possiamo dire che il dato sostanzialmente di marzo? Sì, noi possiamo dire che questo dato, glielo dico con certezza, l'abbiamo iniziato a calcolare intorno al 10 di marzo. A breve potremmo dire che è un dato quasi su base mensile. Ok, questo dato molto importante, anzi la ringrazio per averci dato dei numeri che insomma rendono chiara la situazione. Quindi potremmo dire in chiusura che proprio quel senso civico dei triestini che normalmente sono tra le popolazioni che segnalano di più i reati, si è tradotto nel segnalare diciamo il mancato rispetto alle regole. Sempre con il tema sul quale noi siamo sempre un po' in bilico tra informare, dire ma non criminalizzare. C'è sempre un po' difficile. Sì, sì, assolutamente. Guardi, è stabile. Lei mi offre un altro assist. Anche le nostre battuglie per sgomberare l'equivoco che noi non stiamo facendo, diciamo, tra virgolette, i carcerieri di nessuno hanno un approccio molto educato, molto empatico con i soggetti che vengono fermati. Nel senso che il primo approccio è un approccio di verificare che le persone abbiano conoscenza di queste regole, che le abbiano consapevolizzate e poi si passa all'aspetto veramente sanzionatorio che non manca, ci mancherebbe che non manca. Però stiamo proprio cercando di non criminalizzare gli atteggiamenti, cercando di capire quelle che possono essere le esigenze delle persone ma sopra di tutto in questo momento c'è il diritto alla salute che è il principio in virtù del quale noi stiamo facendo questo grosso sforzo. È uno sforzo che ci dicono le autorità competenti, deve essere prolungato e noi faremo di tutto per fare in modo che questo obiettivo venga conseguito, ma sono fiducioso che ce la faremo. È un grande sacrificio, obiettivamente è un grande sacrificio anche per la mia struttura continuare su questo impegno, però la Polizia di Stato insieme con l'Arma dei Carabinieri, la finanza, il grandissimo contributo delle polizie locali. Insomma ognuno sta facendo il suo ruolo, la Regione, la SUGI sta facendo il suo ruolo. Se lei pensa che noi stiamo facendo i controlli su coloro i quali vanno a fare i tamponi attraverso un QR code per preservare, torno al tema che lei ha detto prima, anche i nostri agenti, quindi non c'è promiscuità tra il controllato e il controllore. C'è tutta una storia stabile di quello che si sta facendo, è anche una storia sommersa che io mi permetto di definire virtuosa, ma lo dico virtuosa perché non è merito del questoreo della Polizia di Stato, è merito di tutti gli attori istituzionali di questo territorio che a mio modo di vedere si stanno comportando tutti a livelli professionali molto molto alti. Questoreo mi ha fatto venire in mente ancora una considerazione che è meno di strada ma più informatica, nel senso che in questo momento di emergenza ci siamo resi conti come internet in realtà abbia dei limiti che magari molti non si aspettavano e secondo che gli attacchi sempre più arrivano anche da quel fronte, quindi anche la Polizia, quella postale in questo caso reparti specializzati sono alle prese anche oltre all'epidemia con una serie di reati non dico nuovi ma particolari che si stanno sviluppando, qui non parliamo di scippi e rapine ma parliamo di un qualcosa di molto più sofisticato e anche più complesso da contrastare diciamo così. Sì perché è chiaro che c'è una forma di mutazione genetica anche della criminalità, cioè noi non possiamo illuderci nel momento in cui il questore le dice che i reati sono calati del 60%, ovviamente il questore non si illude che questo è un dato statistico stabile e inevitabilmente dall'altra parte ci sarà qualcuno che si organizzerà in maniera diversa, in maniera diversa dal punto di vista lodevole, lei pensi che quante scoperte stiamo facendo noi di questa modalità di comunicare e di cui potrebbero anche rimanere alla fine di questa esperienza delle virtù, come per esempio molti esercizi commerciali raggiungano la propria clientela in una maniera diversa, inevitabilmente anche il crimine, anche chi vuole delinquere si sta industriando perché chiaramente se questo periodo dovesse essere troppo lungo anche loro cercheranno di delinquere con forme diverse che si muovono sulle piattaforme, poi lei sta parlando della piattaforma internet che già viene utilizzata moltissimo, lei pensi alle truffe online, pensi ad altri reati molto gravi che vengono commessi, però ci sentiamo di dire che ci troveranno presenti a pattugliare anche in quella realtà, insomma la nostra è un'obbligazione di prestazione e noi ci impegneremo sempre, mi auspico o almeno fino ad ora posso dire che è stata anche un'obbligazione di risultato perché i risultati al momento sono positivi. Chiudo con lei esattamente come avevo fatto l'altro giorno con il prefetto, ovvero le chiedo, al di là della carica istituzionale, il cittadino Giuseppe Petronzi come la sta vivendo nel suo personale affrontare questa situazione da uomo non da poliziotto, ovvero quando per qualche ora stacca la spina? Sì, ma diciamo che non sono molto privilegiato perché l'unico controllo che posso subire lo subisco in ascensore perché abito al piano secondo e raggiungo il mio ufficio al piano primo, quindi ho pochi privilegi. Devo ringraziare il mio cane Meghi che mi consente di fare le tre passeggiate canoniche e ieri sono incappato anche nel controllo molto ben fatto da parte delle battuglie che mi hanno chiesto, non mi avevano riconosciuto, se fossi alla giusta distanza dalla questura. Ma quindi dai suoi poliziotti o dai carabinieri? Era l'esercito in quel caso. Era l'esercito perché mi ero avvicinato alle rive perché avevo fatto un calcolo che stavo più o meno nei 198 metri, insomma la voglio lasciare con una battuta, insomma comunque ho il privilegio di vivere al centro, ho il privilegio di avere un cane, però mi attengo molto molto disciplinatamente alle distanze e le distanze mi consentono di vedere il centro, sono molto rattristato da vedere questo gioiello di città vuoto, sono assolutamente convinto che avremo un futuro migliore vicino, noi ci impegniamo perché questo possa accadere, teniamo duro tutti quanti e ci verrà restituita la nostra bellissima città. Ecco, cosa che ribadisce anche un fatto che molti triestini non sanno che il prefetto vive in prefettura e quest'ora vive in quest'ora, perché non era così scontato per tutti, ecco è una piccola cosa, un piccolo dato, quindi c'è proprio un presidio fisico delle istituzioni. Assolutamente, come dicono gli americani 24-7, noi siamo sempre qui e non posso sfuggire, quindi ci trovate qui ma facciamo veramente con piacere questo lavoro, sono onorato di fare questo lavoro e sono onoratissimo di farlo in questa meravigliosa città. Quest'ora e tante grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie a lei Stabile, saluto tutti gli spettatori, tenete duro e restate a casa. Grazie, grazie a quest'ora di Trieste Giuseppe Petronzi per essere stato con noi in questa diretta di Telequattro che prosegue di giorno in giorno con tante ore di programmazione, saluto anche così quest'ora e ancora grazie per essere stato con noi in videochiamata. Grazie ancora, grazie. Allora proseguiamo, proseguiamo andando a sentire il nostro Gianluca Paladin che a breve sarà pronto per un collegamento, ovviamente il tema del giorno è obbligo di mascherine e guanti per la spesa, traducendo in termini corretti per tutti così nessuno chiama e si interroga, obbligo di coprirsi naso, bocca e mani per fare la spesa, ovvero se non avete la mascherina va bene anche una sciarpa, un copricollo come diceva Federica, poi gli dirò cos'è il copricollo, gli chiederò un foulard o quant'altro. Vai Gianluca! Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno Marco, siamo in via Flavia, l'Eurospar alle mie spalle con la consueta fila di persone pronte per fare la spesa, come potete osservare dalle immagini di Enzo Iannacone praticamente quasi tutti, tutti hanno mascherine, quasi tutti hanno i guanti, quindi insomma sono più che organizzate le persone per riuscire a rispettare l'ordinanza che ha illustrato anche Federica proprio ieri, una giornata solleggiata, quindi il sabato che precede la domenica, quindi di conseguenza sappiamo benissimo che domani sarà tutto chiuso, perciò chi fa la spesa magari la va a fare anche perché come ogni sabato per la chiusura del giorno dopo, ricordiamo che domenica è tutto completamente chiuso, a parte alcune farmacie di conseguenza e le edicole la mattina di conseguenza, insomma motivi per fare la spesa ulteriori, non ce ne sono, una fila di circa 25 persone saranno in questo momento, là in fondo sempre in via Flavia tra l'altro c'è il kebab che l'altro giorno ha contribuito anche portando a noi qualcosina in redazione, rinnoviamo i ringraziamenti come è doveroso che sia ovviamente, giornata ripeto con un buon afflusso di gente per quanto riguarda la spesa, c'è una buona fila, poi sono tutti organizzati, c'è il controllore all'ingresso che si occupa di assicurarsi che il flusso di persone sia ordinato e che non entrino più di una o due persone alla volta, come sapete bisogna sempre aspettare che alcuni clienti escano e solo dopo possono entrare i successivi, la gente possiede praticamente i guanti ce li hanno quasi tutti, così come le mascherine, solamente qualche sporadico, sporadicamente si nota qualcuno senza nulla, ma insomma poi sappiamo che anche all'interno dei supermercati si possono usare tranquillamente i guanti che vengono usati per raccogliere frutta e verdura nel reparto e possiamo indossarli su tutte e due le mani e continuare a fare la spesa con quei guanti di plastica che poi subito fuori dal supermercato buttiamo tranquillamente, quindi comunque i supermercati sono di per sé già organizzati in questo, chi non dovesse possedere dei guanti entrando nell'esercizio commerciale li può comunque trovare all'interno oltre che poi poterli propriamente acquistare. Questa è la situazione in Via Flavia che vi sta mostrando il nostro Enzo Iannacone, adesso noi comunque ci sposteremo in altre zone della città e quindi attendiamo dopo un altro collegamento. Grazie, grazie, grazie ancora al nostro Gianluca Paladin, ringraziamenti ancora anche al questore Petronzi che ci ha dato diverse notizie. Allora, riepilogo, meno 60%, quindi reati in calo del 60% a Trieste del 10 di marzo, quindi sostanzialmente dall'inizio dell'emergenza. Aumento del 7-8% di chiamate al numero di emergenza, soprattutto per segnalazioni di cittadini rispetto a mancato rispetto delle normative, quindi segnalazioni di presunti assembramenti e quant'altro. Quanto alla cattività delle persone, ovvero del fatto che restano a casa, è stata attivata anche una rete antiviolenza che va a monitorare tutte quelle famiglie, tutti quei nuclei familiari, tutte quelle persone che erano già attenzionate da una serie di precedenti e di conseguenza si cerca di monitorare in modo che eventuali potenziali situazioni a rischio non esplodano in questo momento in cui si deve rimanere a casa. Poi la nota a margine del fatto che il questore sia stato controllato mentre portava a fare il giretto vicino alla questura il proprio cano dai militari, cosa dimostra? Dimostra che vengono controllati tutti, quindi le misure sono corrette nel controllo del territorio, anche Telequattro è stata controllata correttamente dai carabinieri in largo barriera. Pronto? Pronto, buongiorno? Pronto, buongiorno? Niente, vabbè, allora evidentemente la chiamata non è ancora in linea. Allora, io non ho l'ultima scaletta, ma se non sbaglio abbiamo diversi contributi pronti, diverse cose fresche, diciamo così. Tra queste il servizio del nostro Umberto Bosazzi relativo alle parole del Papa, ma sentiamo la chiamata intanto, lo prepariamo intanto il servizio. Pronto? Pronto? Prego. Senti, volevo chiedere solo un'informazione. Mia figlia abita a Ronchi, io abito a Gorizia. Praticamente lei, che lui, il mio genero, lavorano, vogliono portare qua i bambini. E sento che io ho la casa più grande. Dove abitano? A Gorizia. Loro abitano a Ronchi. Sì, e vogliono portare i bambini da lei perché devono andare a lavorare? Sì, però io volevo che venivano tutti quanti qua senza andare avanti indietro perché adesso la figlia lavora a Gorizia. Non credo, non credo, non credo, non credo, non credo si possa fare onestamente. Cioè, quello che prevede il Governo, io non posso andare nello specifico di ogni singola situazione. Quello che io posso dirlo è quello che dice il Governo. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli da nonni o per andare a riprendere, dai nonni o per andare a riprendere all'inizio del termine della giornata di lavoro? Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto più breve, eccetera, eccetera. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato. Questo io posso dire. Questo io posso dire perché non sono una persona autorizzata a dire di più o di meno. Quindi questo è quello che posso dire e in questo modo posso aiutarla. Allora, non so se c'è lo stacco pubblicitario, Guido. Va bene, grazie, arrivederci. Arrivederci. Guido, c'è lo stacco pubblicitario alle 12.30? Mi sembra di sì? Se sì, mandiamo la pubblicitaria e riprendiamo tra poco. A tra poco. Ben trovati, ben trovati ancora in onda in diretta straordinaria di Telequattro. Ormai è diventata di fatto una straordinaria ordinaria se mi passate lo simoro. Obbligo di mascherine e guanti per la spesa, ovvero per fare la spesa, entrare nei supermercati, approvvigionarsi di cibo, bocca e naso coperti, se non avete la mascherina, un foulard, una sciarpa. E naturalmente i guanti, possono utilizzare naturalmente i guanti che ci sono nei supermercati, quelli di plastica. Pronto? Buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, volevo riallacciarmi alla telefonata che ha preso adesso il signore che ha detto che parlava da Ronchi a Gorizia, per la figlia che lavora. Allora, è previsto, perché io ho lo stesso problema. Mia figlia abita a Muggia, io abito a Trieste. Lavorano da casa, tutti e due. Ma è quel lavoro che devono rispettare gli orari. Smart working da casa. Bravo, però con gli orari previsti in ufficio. Di conseguenza hanno una bambina di tre anni e una minore. È previsto, perché l'ho fatto io, mi hanno fermato sia i carabinieri sia i vigili urbani, con l'autodichiarazione, va messo che l'ho spostamento è determinato da situazione di necessità, anche in un altro comune, per... Aspetti, adesso non mi ricordo... Per... Mi aiuti, per... Sì, questioni di necessità, urgenza, per andare a... Per controllare i minori. Per una bambina di tre anni ha bisogno che gli si faccia pranzo. Mia figlia lavora da mezzogiorno alle quattro e non può rispondere al cliente per telefono con una bambina che deve fare pipì, che deve pranzare, che deve... No, no, ma è chiaro, allora l'indicazione della signora vale anche per quell'altro signore di prima. Io penso di sì, perché io ho parte che sapevamo... Questa è una cosa che era partita da... Sì, il problema però è che il signore voleva far stabilire l'intera famiglia a casa sua. Quello ho sentito, sì, quello non... Eh, questo non... Non, 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 non credo proprio, però è previsto. Grazie, grazie della signora. Va detto però che c'è un'altra precisazione da fare. Allora, domani è la domenica delle palme. Dunque ci scrivono, come si fa domani con le palme? Vale la benedizione televisiva? Altrimenti come si fa? I sacerdoti benedicono gli ulivi e ce li daranno finita la pandemia? Allora, sicuramente vale la benedizione televisiva. Detto questo, comunicato dalla Curia Vescovile, leggo. In occasione della domenica delle palme, la Curia Vescovile ricorda ai fedeli che quest'anno, nel rispetto delle attuali norme per il contenimento del coronavirus, la celebrazione liturgica si terrà senza la benedizione degli ulivi, in un orario unico, con le porte delle chiese chiuse, quindi vi prego, siccome a Santa Maria Maggiore c'era gente qualche settimana fa, poi è stata spostata fuori dalla chiesa, non andate per cortesia, per cortesia. Quindi, chiese chiuse e senza il concorso di popolo. Anche la distribuzione dei rami di ulivo, che tradizionalmente avveniva alle porte della chiesa o nelle sue vicinanze, non potrà essere fatta. Pertanto, si raccomanda la massima attenzione verso eventuali venditori di ulivi presenti davanti alle chiese o nelle vie adiacenti e si invitano i fedeli a non prendere rami, a non rilasciare offerte ai corrispondenti. La diocesi e le parrocchie non hanno dato alcuna autorizzazione a tali iniziative. Inoltre, si informa che i parroci sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria tali illeciti. Quindi, niente palme, nessuno fuori delle chiese che vende alcun che, se c'è qualcuno che, diciamo, vende gli ulivi o chiede offerte, quella persona lì potrà essere sanzionata da polizia e carabinieri. È illegale. Quindi, vi mettete tranquilli sul divano, vi vedete la messa della Domenica delle Palme alle 10.30 su Telequattro. Ci sarà il nostro Enzo Iannacone, con la sua qualità video impeccabile, a riprendere la Santa Messa delle Palme. Ci sarà il nostro Umberto Bosazzi, che al termine della messa sentirà anche il Vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, che dopo, insomma, la parte sacra, rivolgerà chiaramente anche al microfono qualche parole su Telequattro post-messa. Quindi, state lì tranquilli. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sono Roberto Recipiaco, lo chiamo della provincia di Udine. Prego. Sì, salve. Sì, devo solo capire un attimino la situazione, non è una domanda rivolta a lei, ovviamente, ma alle istituzioni. Come mai non dicono la gravità della situazione che qui va, perché a vedere le immagini al Cina, che disinfettano già un mese e mezzo fa, prade, piazze e quant'altro. Adesso lo stanno facendo anche in Italia, con questi spruzzini. Perché non dico, effettivamente, questo virus, quanto dura nell'aria, quante ore, quanti giorni? La fatta dire, la realità... No, no, attenzione. Il virus, diciamo, se la famosa gocciolinea della salivale arriva addosso all'insumento, eccetera, si parla di circa una sopravvivenza del virus attorno alle 4 ore. Però il tema che lei ha letto, probabilmente, di questo virus che viaggia nell'aria, non è un qualcosa di acclarato e di serio. Sappiamo che se uno urla, se uno starnutisce in maniera molto forte, tossisce in maniera forte, le particelle possono viaggiare a maggiore distanza rispetto al normale. Questo è chiaramente un tema, ma il fatto che il virus sia costantemente nell'aria, insomma, direi che si tratta di questioni non chiarite e, per quanto mi riguarda, nemmeno vere. Però, come dire, saranno i sanitari a dirlo. Detto questo, la sanificazione delle strade, per esempio a Trieste io ho visto in diretta la sanificazione, purtroppo non ho potuto riprendere perché stavo guidando, quindi sarebbe stato non impossibile, ma sicuramente sanzionabile, quindi non l'ho fatto, e si continua a procedere ogni tot giorni. Quindi non è assolutamente vero che questo virus sopravvive 72 ore, 48 ore nell'aria o comunque... Io so che dopo 4 ore la gocciolina che cade sull'indumento cessa di poter essere, diciamo, oggetto di contagio da quelli che erano gli aggiornamenti. Poi il tema che viva nell'aria, insomma, nessuna autorità, diciamo, sanitaria ha mai, diciamo così, avvalorato questa tesi, altrimenti, cioè sostanzialmente chiunque uscisse di casa senza la mascherina contrarrebbe il virus, allora saremmo in condizioni completamente diverse da quelle attuali, no? Grazie, grazie al nostro amico, grazie al nostro amico. Allora non ci deve essere la distribuzione delle palme, infatti non c'è, il sindaco di Rapallo ha affinato l'ordinanza per il mascherino e guante dell'uscita di casa ed è sostanzialmente quello che abbiamo fatto anche qua, perché sì, ok, supermercati, ma tendenzialmente uno, se ce l'ha, se la mette via, vista l'ordinanza di Fedriga. Non tutti possono fare la spesa per una settimana, non tutti hanno i congelatori, le case grandi, inutile dire loro vada sul sito, scarichi il modulo, è un mondo sconosciuto, ha tanta povera gente, infatti abbiamo notato il numero di telefono, che diamo di nuovo, ma come dire, sapete, giudicare una diretta televisiva di 10 ore da 5 minuti ascoltati, anche questo non è proprio corretto al 100%, siamo qua 10-12 ore al giorno e ovviamente diamo le diverse modalità di accesso alle misure, è ovvio che proprio in questo momento, ad eccezione di quelle persone che proprio non ce la fanno in nessuna maniera, tutti gli altri, tutti gli altri, e lo dico ai sessantenni, ai settantenni in particolare, dovrebbero pian pianino, se hanno la possibilità, iniziare a usare internet. Ecco un altro modo per passare il tempo, iniziare a imparare come si usa internet per scopi, diciamo, più legati all'emergenza, ma anche per, non so, visitare il sito di un museo, leggere il giornale e così via, ascoltare musica, è ovvio che si va per gradi, è ovvio che non tutti hanno il computer, però tanti hanno lo smartphone, magari hanno anche la possibilità della rete dati e non lo usano. Ecco, questo è un buon momento per fare in modo che gli anziani approccino anche al discorso informatico. 800, 500, 300 è il numero della protezione civile, il numero verde, poi si hanno tutte le deviazioni del caso per le varie esigenti. 800, 500, 300. Telefonata, pronto? Pronto? Prego. Guardi, volevo chiedere le tre cose, allora prima di tutto se poteva dare di nuovo il numero di telefono del signor Maresca del CAF, perché avete mostrato tre volte sempre metà, metà intervista, non avete dato il numero di telefono che lui dava del CAF. Adesso lo recupereremo, comunque si tratta del CAF della Cisle di Piazza Dalmazia, se non sbaglio, sì, allora, CAF della Cisle di Piazza Dalmazia, credo che comunque ci sarà la deviazione sul numero normale, 040, 679, 1311. A posto? 679, 1311. E' ovvio che il CAF lavora, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, dalle 15 alle 18.30. Non so se ora ci sono orari diversi, casomai mi informo, ad ogni modo oggi, insomma, non troverà la risposta oggi, visto che è sabato. Comunque, 040, 679, 1311. Va bene? No, aspetti, ancora due cose, no? Allora, volevo chiederle, della tisa e della benzina, siccome io ce l'ho già, da quando ho comprato le auto, non ho capito se c'è un'altra testa, non ho capito. No, no. Rimane quella che ho. Certo. Sì? Sì! Ecco, ancora una cosa, guardi, ho tanto chiamato che era di piazza l'altro giorno, ma non sono riuscito, no? dove sono i sociali, è tutto chiuso, mio figlio, li sto cercando da un mese passato. I sociali? In via Mattini è chiuso, in via Locchi è chiuso, allora è inutile che lui parla, andate dai sociali, e poi è tutto chiuso. Allora uno dove deve andare? Va bene, con un altro atteggiamento però signora, perché io le do le indicazioni, le aiuto, ma è inutile avere questo modo, visto che io le ho appena dato un numero. Adesso chiamo, chiamo l'assessore Grilli in diretta, e le chiedo rispetto alla questione, alla questione del assessorato, alle politiche sociali. Grazie alla signora, chiudiamo la chiamata, andiamo avanti, così poi magari sentiamo anche l'assessore Grilli che ci dice la modalità di accesso agli uffici, anche qui basta un attimino smanettare online, io chiaramente anche per rispetto faccio fino a un certo punto, perché sono sempre in video, e quindi andiamo a vedere uno dei servizi che abbiamo preparato, Guido per favore dammi una mano anche tu, perché non ho la scaletta qua a mano, se non sbaglio c'è quello pronto, c'è quello pronto relativo al messaggio del Papa, e non solo, aiutami per favore, eccolo qua, grazie Guido, il messaggio del Papa anche nella diretta di questa mattina, nella messa da Santa Marta. Come sempre, eccezione fatta per la parte più significativamente sentita dai fedeli, due sono i momenti salienti della Santa Messa celebrata dal Papa Santa Marta, e che Telequattro trasmette in diretta dalle 6.55, dal lunedì al sabato. All'inizio della celebrazione, quando il Santo Padre, di solito, invia un indirizzo di saluto che comprende un pensiero più ampio. In questi momenti di durazione, di difficoltà, di dolore, tante volte alla gente viene la possibilità di fare una o un'altra cosa, e tante cose buone, ma anche non manca che a qualcuno venga l'idea di fare qualcosa non tanto buono, profittare il momento e profittarlo per se stesso, per il suo guadagno. preghiamo oggi perché il Signore ci dia a tutti una coscienza retta. Durante l'Omelia, oggi, Papa Francesco si è soffermato sul concetto di tentazione, spiegando come esso si sviluppi e si impossessi di tutti noi, partendo dall'atteggiamento del Sinedrio e di Caifa nei confronti di Gesù. La tentazione in noi generalmente agisce così. Incomincia con poca cosa, con un desiderio, un'idea, cresce, si contagia altri, e alla fine si giustifica. Questi sono i tre passi della tentazione del diavolo in noi. E qui sono i tre passi che ha fatto la tentazione del diavolo nella persona del Dottore della Legge. Cominciò con poca cosa, ma cresce, è cresciuta, è cresciuta, poi si è contagiata agli altri, ha fatto corpo, e alla fine si giustifica. è necessario che muoia uno per il popolo. La giustificazione è totale. E tutti sono andati a casa tranquilli. Avevano detto questa è la decisione che dovevamo prendere. E tutti noi, quando siamo vinti dalla tentazione, finiamo tranquilli. perché abbiamo trovato una giustificazione per questo peccato, per questo atteggiamento peccaminoso, per questa vita non secondo la legge di Dio. Parole molto importanti, se avete ascoltato bene, del Santo Padre, proprio diciamo ricaicando la questione sacra sulla quotidianità di questa emergenza. Veramente è stato un esempio di come calare la realtà religiosa anche in senso pratico. Gianluca Paladin in collegamento se non sbaglio dal Famila di Valmaura, no dal Lidl di Valmaura, altra coda, guanti e mascherine. Vai! Eccoci qua, eccoci Marco, buongiorno di nuovo. Allora, guanti e mascherine, guanti e mascherine consegnate direttamente dall'addetto della Lidl fuori all'ingresso dove c'è la fila per ora una decina di persone che entrano altre che escono una fila anche le mascherine come sempre qui sono ben organizzati effettivamente e no, allora distribuiscono i guanti cioè fuori l'addetto come potete vedere dalle immagini di Enzo Iannacone ha in mano la confezione classica di guanti trasparenti di quelli che si utilizzano comunemente in supermercato l'ha portata fuori e quando nota delle persone che non li possiedono addosso li distribuisce lui personalmente oppure li si può chiedere appunto già l'ingresso nel momento in cui uno sta per varcare le porte automatiche del supermercato quindi gli stessi dipendenti del sercizio commerciale si sono resi disponibili a svolgere questo servizio fuori come potete vedere perciò molta molta organizzazione prima abbiamo visto anche fare questo su e giù da parte dell'addetto alla distribuzione che appunto andava a dare i guanti a chi non li possedeva tutti quanti invece bene o male arrivano con le mascherine chi non ce l'ha la tira fuori magari nel momento in cui deve entrare al supermercato quindi alla fine tutti più o meno ne sono muniti qui in via Valmaura il parcheggio tra l'altro è pieno ma comunque le persone che vengono a fare la spesa non sono tantissime almeno non per volta sono abbastanza ordinate sono sicuramente persone che poi entrano svolgono la spesa in maniera celere in maniera veloce e poi escono c'è un via vai continuo ma come potete vedere tutto molto ben organizzato viene anche rispettata abbastanza la distanza di sicurezza tra persona a persona quindi comunque i cittadini sono i primi a collaborare giustamente una situazione tutto sommato tranquilla mi piaceva segnalare appunto questo Marco che c'è fuori l'addetto alla distribuzione dei guanti e questo è un segnale comunque di organizzazione che secondo me anche per quanto possa sembrare poco non va non va trascurato assolutamente importante ecco poi c'è l'altro tema ovvio domenica supermercati chiusi quindi di conseguenza oggi c'è un pochettino di affollamento in più al netto del fatto che insomma si dovrebbe fare la spesa grande una volta alla settimana non tutti gli anziani magari possono farlo però insomma c'è anche questa tendenza sì sì dici bene ricordiamolo poi che tra l'altro ci sono purtroppo purtroppo ci sono in realtà stati dei casi in cui qualcuno per fare la spesa non per forza Trieste ma in generale in tutta Italia è stato multato perché magari ha preso una bottiglia di vino oppure due banane insomma se andate a fare la spesa riempite il sacchetto della serie la spesa va fatta una volta a settimana o meglio ancora una volta ogni 10 giorni poi certo ci sono quelle persone magari che vanno un po' più spesso ma ecco la distribuzione Gianluca fede alle disposizioni ecco la distribuzione esattamente hai visto Marco esatto stringiamo sull'operazione sì stringiamo sull'operazione bravissimo Enzo che ci fa vedere che ci fa vedere molto bene quello che poc'anzi vi avevo annunciato e che tu adesso alle mie spalle hai notato la distribuzione delle mascherine scusate la distribuzione dei guanti proprio per fornirli a chi non li possiede quindi super organizzazione da parte di coloro che si occupano anche della security all'interno dell'esercizio commerciale una situazione che fa piacere sicuramente che fa piacere vedere di conseguenza tra l'altro mi hanno anche avvertito anzi grazie ad Enzo Giannacone che se ne è accorto prima una signora non so se l'avete vista dall'inquadratura era stata allontanata perché sprovvista di mascherina quindi se prima avete visto una signora in fila al limite della fila proprio alla fine è andata via proprio perché non possedeva mascherina e quindi in questo caso non poteva entrare quindi rispettate in maniera più che estensiva la normativa illustrata da Fedriga nella giornata di ieri dove con la nuova ordinanza si è stabilito che bisogna quantomeno venire coperti quindi magari uno non possiede la mascherina magari nel proprio rione non è ancora arrivata quella che viene distribuita dalla protezione civile però se uno possiede una sciarpa un foulard un fazzoletto di stoffa che possa avvolgere intorno al viso è caldamente consigliato farlo se si vuole entrare a fare la spesa questa è più o meno la situazione Marco sembra che da questo collegamento abbiamo visto sostanzialmente il vero e proprio rispetto di questa ordinanza controllo l'ingresso non si entra senza mascherina e i guanti direttamente forniti dal personale del supermercato allora andiamo a vedere come si fa una mascherina se non si può diciamo se non si è ancora a disposizione quelle inviate dalla regione con una sorta di tutorial eccolo qua semplice fazzoletto via si piega in due parti in altre due quindi si fa una nottina una sorta di striscia due elastici classici a diciamo un terzo da una parte dall'altra a modi caramella si ripiega ancora una volta da entrambe le parti e via eccola qua grandissima bravissima bravissima questa ragazza se non sbaglio è arrivata direttamente da facebook dalla nostra telespettatrice vediamo ancora una volta facciamo il replay dai vai guido allora fazzoletto lo piego a metà lo ripiego ottengo questa striscia elastico a destra elastico a sinistra a modi caramella un po' più larga al centro ripiego ancora una volta tiro su e via sulle orecchie eccola la mascherina improvvisata se non hai ancora ricevuto quelle della regione questa è Milena Kramer che insomma su facebook ha pubblicato questo video e mi sembra e mi sembra un'indicazione veramente veramente furba veramente furba anzi se mi date un fazzoletto se mi date un fazzoletto dalla redazione provo anch'io se mi procurate un fazzoletto e due elastici ci provo anch'io magari se qualcuno riesce a procurarmelo azzardo di provare anch'io allora coronavirus proprio ieri l'OMS ha dato notizie che stanno studiando sul fatto che circoli il virus dell'area si stanno studiando però attenzione a questa notizia perché dire cose del genere finché non c'è la certezza di come quando perché a che livello no perché se no uno a quel punto ha paura anche di andare a fare la spesa no e quindi bisogna un attimo bisogna un attimo aspettare le ufficialità bellissimo questo video questo video della mascherina mi ha veramente colpito perché al di là di quelli che giustamente hanno attrezzato no pannoloni altre cose scocce ma qui si tratta proprio di una soluzione pronto uso no si può fare in 10 secondi veramente la genialità le volte delle piccole cose no allora allora dovremmo avere ancora dei servizi dovremmo avere ancora dei servizi quello in particolare anche dell'allarme cinghiali perché allora pochissimo tempo fa in insomma stretto giro qualche settimana fa c'è stata la sentenza vinta anche in appello da quella triestina che fu ferita da un cinghiale nel proprio giardino di casa nel lontano ormai 2012 quando aveva 35 anni ha vinto in primo grado ha vinto in appello notizia che poi si collega a una nuova emergenza cinghiali proprio all'epoca del coronavirus perché perché non c'è presidio in questo momento su aree boschive sui campi su molti campi coltivati e così via quindi i cinghiali che già normalmente si avvicinavano alle città e ai campi nel periodo della semina lo fanno ancora di più perché in assenza di esseri umani in assenza appunto della popolazione che rimane a casa sono ancora più invitati da una parte a far razzia nei campi delle semine quindi mettendo in forte dubbio tutta una serie di raccolti e dall'altra ad avvicinarsi alle abitazioni e avvicinarsi alle case non si deve fare e ripeto perché so di alcuni punti della città dove la gente è andata a mangiare dei cinghiali l'abbiamo anche segnalato più volte non fatelo non fatelo perché si rischia situazioni come questa vinta anche in appello la causa intentata dalla triestina gravemente ferita da un cinghiale nel luglio del 2012 a Trieste episodio che ebbe come teatro il giardino privato della donna nel rione di San Giovanni la vittima dell'ungulato che all'epoca dei fatti aveva 35 anni subì una grave lacerazione all'interno coscia della gamba sinistra provocata da una zanna del cinghiale l'animale provocò seri danni rendendo necessari diversi interventi chirurgici e ricoveri in ospedale dopo il processo in primo grado vinto nel 2018 che costrinse la regione Friuli Venezia Giulia a risarcire la donna con 40.000 euro è arrivata anche la conferma integrale della sentenza in appello siamo soddisfatti dell'esito giudiziario ha detto l'avvocato triestino Chiara Ferri ma speriamo che sia solo un inizio rispetto ad interventi di contenimento della specie Mirati come le campagne di sterilizzazione varate ad esempio in Toscana il legale infatti contestò l'insufficienza degli interventi pubblici atti a limitare la riproduzione dei cinghiali che avrebbero potuto evitare l'avvicinamento alle aree abitate alla ricerca di cibo va detto peraltro che la regione ha di fatto ereditato la causa dalla provincia che all'epoca dei fatti era titolare della gestione della fauna selvatica al fronte legale rispetto all'episodio in sé chiusosi in secondo grado di recente si somma in queste ore di emergenza coronavirus anche l'appello di col diretti FVG che in una nota sostiene come ci siano 20.000 cinghiali in regione liberi di circolare nelle campagne e nelle aree urbane danneggiano le culture e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini dice col diretti l'emergenza si aggiunge poi nella nota si è ulteriormente aggravata nelle settimane del coronavirus a causa dell'interruzione dei servizi di controllo della fauna selvatica l'allarme per voce del presidente di col diretti regionale Michele Pavan che lancia un appello alle istituzioni a partire dai prefetti invitandoli a dare disposizioni per una quanto mai opportuna operazione di contenimento di animali che stanno devastando i campi proprio nella fase della semina allora chiedo alla regia se possiamo con un attimo di pazienza attrezzare anche una camera più larga c'è un'inquadratura più larga così io provo a fare quello che ha fatto la ragazza cioè provo a fare una mascherina al volo allora sto tentando di creare un foulard perché non avendo un foulard sto improvvisando con la carta voi fatelo ovviamente con un fazzoletto così viene sicuramente meglio ma così giusto per farvi vedere in maniera molto pratica scusatemi eccoci qua allora facciamo così facciamo finta che questo sia il nostro foulard poco fa abbiamo visto la nostra amica qui online diventata nostra amica così diciamo al volo Milena Kramer che ha postato questo video su facebook quindi andiamo per gradi lei cosa fa lei prende il fazzoletto prende il fazzoletto e lo piega a metà quindi ovviamente a me non riesce così bene perché non ho un fazzoletto di stoffa ma insomma lo piego a metà prendo intanto due elastici uno uno e due cosa fa poi Milena andiamo a vedere un attimo il video piega un'ulteriore metà e quindi anche noi ci atteniamo scrupolosamente alle indicazioni dell'amica Milena poi cosa fa ancora andiamo a vedere prende gli elastici e forma questa sorta di caramella uno e due facciamolo anche noi prendiamo i due elastici ovviamente ripeto io non ho con me uno di quei bei fazzoletti che le persone eleganti tengono nella tasca quelli sì che sono uomini eleganti da altri tempi non sarà perfetta ma insomma diciamo che ci si avvicina devo dare un po' più di corpo diciamo alle due parti laterali e poi cosa si fa andiamo torniamo da Milena che poi ripiega al centro le due estremità laterali quindi una così e una così ovviamente a me mi si romperà tutto in mano perché per leggere di Murphy succederà questo però ci provo allora a questo punto visto che io ho la pinzatrice quindi posso fare un passo in più vediamo se così funziona adesso cambiamo inquadratura e vediamo se faccio un disastro e vediamo se faccio un disastro eccomi qua ecco qua la mascherina ovviamente ovviamente no a differenza del fazzoletto che ovviamente ha un tessuto che ha una sua traspirabilità il pezzo di carta non è che permette la stessa respirazione però vedete un po' come la nostra Milena ha risolto la situazione artigianamente con un foulard noi non avendo il foulard abbiamo risolto comunque è così eccoci qua si piegano le orecchie perché gli elastici non sono sufficienti però in qualche modo le abbiamo fatte anche noi vediamo Milena e vediamo Marco eccoci qua pronti avete visto che con un po' di ingegno italico in qualche modo si riesce a fare tutto grazie grazie a Luca Rebez che mi ha fornito degli elastici che altrimenti diventava un po' impossibile impossibile fare tutta questa tutta questa operazione quindi a casa fate la stessa cosa con un fazzoletto e se siete in difficoltà vi fabbricate una mascherina improvvisata per andare al supermercato meglio quelle normali sicuramente questo è un piano B o un piano C meglio di niente abbiamo mostrato che comunque in qualche modo si può fare ovviamente viene meglio con degli elastici sufficientemente lunghi da come dire contenere le orecchie senza darvi fastidio comunque l'abbiamo fatto allora pronto buongiorno si buongiorno autostabile sono Roberto ciao Roberto volevo spendere ma due parole per quegli operatori che avete fatto vedere appunto avanti ai supermercati di cui io faccio le stesse mansioni che in questo momento stiamo in prima linea ma siamo un po' dimenticati perché noi comunque siamo operatori della sicurezza la sicurezza non armata e appunto siamo comandati a fare la regolazione al flusso delle persone che vogliono accedere ai supermercati purtroppo voglio far notare anche le istituzioni il nostro contratto di lavoro è il più basso che può esserci in Italia prendiamo 800-900 euro al mese massimo quindi siamo proprio nella disperazione io spero che visto il nostro impegno se anche voi potete dargli un po' di risalto in più qualcuno si ricorderà di noi oltre diciamo ai 100 euro che verranno erogati dallo Stato anche le aziende appunto della grande istituzione ricorronceranno il nostro impegno in qualche maniera perché ripeto siamo tantissimi il contratto si chiama servizi fiduciari praticamente fa parte della categoria di vigilanza privata ecco tutto qua io alle 14 andrò in servizio alle torri davanti è un moto supermercato speriamo che vada tutto bene perché la gente sa non è proprio propensa no no ma ho capito perfettamente quindi la ringrazio per la sua chiamata e per il suo lavoro quindi un applauso anche a voi io sto chiamando l'assessore al sociale del comune di Trieste ai servizi sociali alle politiche sociali Carlo Grilli l'assessore comunale che proveremo a coinvolgere proprio per rispondere buongiorno assessore buongiorno Marco allora io la chiamo a seguito di una chiamata di una telespettatrice che chiedeva lumi circa le aperture dei centri dei servizi sociali del comune cioè degli uffici in questo periodo di emergenza coronavirus perché evidentemente avevano trovato chiuso e poi ovviamente ne approfitterò per ribadire il concetto del bonus del bonus spesa che mi sembra comunque molto importante ma partiamo partiamo dal tema partiamo dal tema dei vostri dei vostri ucifici delle aperture anche anche ovviamente per far capire ai cittadini quando è il momento quando è il momento migliore per per venire per venire da voi anche per evitare ovviamente assembramenti intanto buongiorno a te buongiorno a tutti delle spettatori noi in questo periodo con il mio dipartimento potete immaginare che siamo operativi al 100% e anche di più e mi regghiota l'occasione davvero per ringraziare tutti i miei collaboratori del comune dei servizi sociali perché siamo davvero impegnati su mille fronti e su molte e su molte partite noi siamo operativi io ho inviato precedentemente questa chiamata un file con tutti i numeri di telefono perché è chiaro che anche noi dobbiamo limitare quelli che possono essere degli assembramenti e quindi cerchiamo di facilitare tutti i contatti attraverso appuntamenti telefonici abbiamo un numero verde che è l'800 388 688 che può essere utilizzato dalle persone che sono impossibilitate a muoversi per aver recapitare per vedersi recapitare a casa vivere i farmaci e quant'altro di cui potessero avere bisogno tutti i nostri uffici sono operativi al 100% chiaramente se possibile in modalità telematica o attraverso un appuntamento che può essere richiesto presso le nostre unità territoriali i numeri di telefono sono tanti come hai potuto vedere e riguardano tutti i specifici servizi perché noi ci occupiamo di persone anziane di persone con disabilità ci occupiamo di minori ci occupiamo di disagio e quindi tutto il nostro personale in questo momento è davvero impegnato a far fronte a quelle che possono essere le richieste da parte dei cittadini abbiamo cercato di facilitare di sburocratizzare tutte quelle che sono anche i contributi finanziari mettendo a disposizione e facilitando l'erogazione e chiedendo la rendicontazione a posteriori non abbiamo un unico numero abbiamo dei numeri dedicati a seconda di quelle che sono le necessità so che è un po' lungo magari vi pregherei nel proseguo della trasmissione di magari evidenziare far vedere la slide che ti ho inviato dove sono inseriti tutti quanti i numeri potete contattarci sempre con fiducia noi siamo davvero a disposizione di tutta la cittadinanza che in questo momento ha delle difficoltà perdonatemi un piccolo passaggio ma è davvero importante io sono davvero vicino e abbraccio tutte le persone che in questo momento della nostra città hanno perso i loro cari sia nelle nostre strutture residenziali come in altre case di riposo questo virus davvero ci ha colpito nella parte più facile della città e ha richiesto un impegno anche morale molto profondo perché queste persone negli ultimi momenti sono private degli affetti dei cari e i cari sono privati dell'affetto diciamo delle persone che vengono a mancare è davvero una situazione atroce noi che condividiamo questo momento nelle nostre strutture residenziali ci rendiamo conto di quanto davvero è difficile e complicato questo momento perché lasciare andar via un congiunto senza la possibilità di stargli vicino è davvero una cosa atroce noi ce la mettiamo tutta ci siamo attrezzati ci stiamo attrezzando continuamente l'azienda sanitaria ci sta appoggiando nei limiti del possibile come sapete abbiamo suddiviso le strutture in varie sezioni però non possiamo non evidenziare che purtroppo la situazione è davvero complessa e gli operatori davvero si stanno mettendo a disposizione giorni e noti continuamente per affrontare questo virus allora assessore io ovviamente credo che la slide me l'ha mandata via whatsapp immagino quindi appena finisco la chiamata la faccio vedere perché se no tolgo il telefonino la tolgo dalla messa in onda quindi al di là di questo arrivano anche i bonus spesa ci sono tutte le indicazioni sul sito per tutti allora le indicazioni sul sito sono chiare e abbiamo già ricevuto nel corso della notte già più di 150 richieste di buoni spesa ricordo che le domande vengono effettuate possibilmente in forma telematica attraverso la mail che è richiesta punto buoni chiocciola comune punto trieste punto it dopo magari ve la manderò oppure per informazioni info punto buoni chiocciola comune punto trieste punto it ci rendiamo conto che non tutte le persone specialmente le persone magari più in là con gli anni possono avere delle difficoltà abbiamo attivato quindi un numero di cellulare che risponde alle chiamate e che è il 366 9393 893 tutti i dati che in ogni caso vi manderò affinché li possiate evidenziare durante le vostre trasmissioni voglio ricordare che il bando di adesione da parte degli esercizi commerciali sarà disponibile già da lunedì e abbiamo già diversi contatti con delle catene di supermercati che ci hanno già offerto la loro adesione anche dandoci delle scontistiche ma noi non possiamo dimenticare i piccoli commercianti e quindi invitiamo tutti i piccoli commercianti ad aderire a questa iniziativa perché avrebbe anche due elementi che dal nostro punto di vista non sono di secondo ordine uno è la vicinanza ai negozi di vicinato ai negozi di prossimità perché devono continuare la loro opera commerciale e dobbiamo mantenerli in vita dall'altra parte avendo un negozio anche piccolo ma vicino a casa evitiamo lunghi spostamenti per questo i tagli non sono dei buoni saranno delle invieremo attraverso la posta elettronica o attraverso la consegna per chi non ha il computer un codice a barre che verrà poi mostrato all'esercente e con una serie di come dire di catena che ci lega al commerciante sapremo esattamente quanto la persona spende dove la persona spende anche perché nella richiesta la persona deve indicare il luogo più vicino a casa o i luoghi dove andrà a fare la spesa certo quindi il classico BIP che si fa le casse con il prodotto si farà sul buono spesa e si scalerà i soldi esatto voglio ricordare che i buoni saranno così suddivisi per un nucleo singolo di famiglia quindi una persona singola sarà il massimo di 250 euro con due persone 350 con tre persone 450 con quattro persone 550 o con cinque persone più 700 ecco questi sono i requisiti cioè questi sono gli importi che attraverso questo finanziamento che poi è stato come avete già ricordato ampliato da Allianz siamo arrivati a portare a 1.578.000 euro abbiamo un conto corrente che laddove qualsiasi o ente o azienda o anche privato cittadino che se la sentisse di contribuire in un modo di solidarietà nei confronti di chi non ce la fa più il conto corrente è aperto e vi daremo anche quello se potete per cortesia farlo vedere in modo da poter ampliare ancora di più la plettina dei beneficiari ancora una cosa poi mi taccio vi chiedo scusa ma è un po' lungo da spiegare questo strumento per il decreto che è stato emanato va a intercettare tutta quella fascia di cittadini che non sono propriamente utenti dei servizi sociali ma sono quei piccoli commercianti quegli artigiani quei lavoratori a tempo determinato quei lavoratori stagionali che in questo momento non potranno cominciare o vedranno ritardata il loro inizio di lavoro presso le località se mai apriranno balneari oppure tutte quelle persone che sono state magari licenziate e ancora non hanno percepito sistemi di sostentamento ecco questo è il target che noi abbiamo anche attraverso quello che ci viene indicato nel decreto che ci è stato inviato abbiamo individuato senza però dimenticare tutti gli altri perché abbiamo dei requisiti minimi vitali che sono dati per legge che ieri è stato fatto un po' di confusione perché sembrava che fossero quelli gli importi che noi dovevamo adescare invece quelli erano i requisiti minimi vitali che servono alla popolazione come dato statistico per continuare un percorso di vita decoroso quindi a queste persone noi daremo priorità a tutte le altre laddove dovesse essere capienza del finanziamento daremo per quanto ci è possibile però come dire l'obiettivo è quello di intercettare tutte le figure professionali che in questo preciso momento non hanno nessun tipo di possibilità di avere una fonte anche minima di reddito grazie l'assessore Grilli grazie a voi grazie per il vostro prezioso lavoro grazie 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 l'assessore Grilli lo saluto anche così grazie per essersi messo in collegamento al volo andiamo a vedere invece Marco Orelli della FIOM CGL di Trieste sulla questione operai intervistato ieri sera da Gianluca Paradini in diretta straordinaria sentiamo un estratto di queste interviste e poi proviamo ancora un esperimento dalle 13.30 c'è Laura Bucarella restate lì la situazione a Trieste chiaramente è peggiore a livello generale di tantissimi altri luoghi perché la deindustrializzazione in questo momento che è ormai nata da tanti anni nella nostra città è una cosa che poi a livello economico si risente perché noi abbiamo un tessuto molto basato sul terziario e in questo momento il terziario è fermissimo quindi ritengo che Trieste abbia una situazione molto difficile senza parlare del discorso sanitario anche per la popolazione di una certa età per quanto riguarda le aziende abbiamo una situazione che è chiaramente è una situazione nuova per tutti molto molto difficile imprevista che probabilmente nessuno ha mai gestito e abbiamo una situazione paradossale abbiamo un numero veramente elevato io prima ho catalogato una cinquantina di verbali di cassa integrazione di ditte piccole medio piccole addirittura con una persona con un dipendente soltanto e abbiamo altre situazioni invece allo stesso tempo di grandi industrie anche multinazionali che continuano la produzione essendo inserito in quel contesto del decreto in cui possono o rispetto al codice a teco o rispetto alla filiera e il codice a teco della filiera quindi continuano la produzione e questo i lavoratori in alcuni casi non alcuni in parecchi casi rispetto anche alle notizie che ascoltano che ascoltiamo tutti noi da tutti i Tg insomma è chiaro che si preoccupano è chiaro che la situazione più si allunga e peggio è speriamo che non aver insomma fatto in maniera che veramente la produzione non essenziale si fosse fermata per un periodo di tempo di un certo tipo non allunghi questa insomma la famosa ripartenza chiamiamola così non allunghi questa situazione che sarebbe peggio a mio avviso per l'economia magari non tanto nel nostro settore che è quello produttivo ma nel terziario che a riprendersi per l'antoromasia fa tutta una serie molta fatica anche perché gli stipendi la cassa integrazione non è lo stipendio evidentemente è un importo di denaro che chiaramente rispetto poi alle spese e le spese si riducono ovviamente insomma in questo senso questo è il quadro che in questo momento ci si presenta per quanto riguarda appunto la situazione industriale non solo Triestina queste le parole di Marco Relli della Fium CGL poi sentiremo l'intervista intera ma siccome siamo in vena di tutorial vediamo come si realizza una mascherina ad hoc con un tessuto che permetta anche un po' la respirazione prima abbiamo realizzato lo ricorderete quella fatta proprio con la carta asciugatutto insomma il classico rotolone da cucina proviamo a farne una un po' meglio seguendo le indicazioni di un generale dell'esercito americano dell'esercito degli Stati Uniti andiamo a vedere ecco andiamo a vedere il video sentendo anche l'audio poi dopo vediamo di realizzarla qui è come a fare un face cover in un po' in un in un 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 scarfe o bandana o hand towel o you can make a face covering out of un t-shirt fold it to the middle from the bottom fold it to the middle from the top fold it again to the middle from the bottom and again from the top and then two rubber bands one on then fold either side to the middle and you have yourself cloth face covering it's that easy allora noi ovviamente non saremo bravi come il generale dell'esercito americano ma ci proviamo e come ci proviamo avete una vecchia maglietta della bavisela o mira marchessi a casa benissimo allora con la nostra inquadratura nuova con l'inquadratura da tutorial diciamo così gestita dal nostro guido in di regia lo vedete qua cerchiamo di creare qualcosa che assomigli il più possibile a diciamo un rettangolo però abbastanza largo anche nel lato stretto pieghiamo una volta di qua pieghiamo una volta di là cercando di fare un lavoro più possibile più possibile preciso ci vorrebbero degli elastici ci vorrebbero degli elastici abbastanza larghi perché altrimenti poi o si rompono o va a finire che non riuscite ad allacciarla sulle orecchie però insomma noi intanto proviamo con quello che abbiamo voi fate conto vedete il problema può essere appunto l'inconveniente ovviamente può essere quello che l'elastico si rompe quindi utilizzate degli elastici abbastanza larghi io per fortuna ne ho qualcuno in più grazie a Luca Rebberz che mi ha approvvigionato anche anche di questo vedete quando sono arrivato a questo punto ho creato la mia chiamiamola caramella la vedete piego dalla parte sinistra faccio così piego dalla parte destra e ho le due estremità che posso utilizzare ovviamente non mi riuscirà mai al primo colpo ho le due estremità e posso provare andare così se proprio in emergenza sono a posto non è perfetta ma meglio di niente insomma se ho un'esigenza dell'ultimo momento altrimenti come avete visto prima l'abbiamo realizzata nella stessa maniera anche di carta e così vedete questa assomiglia proprio assomiglia proprio a una mascherina di quelle vere perché è anche bianca le mie orecchie soffrono perché ovviamente non avevo gli elastici della grandezza giusta ma con gli elastici diciamo un po' più grandi il gioco è fatto bene allora finita anche questa esperienza per cui penso qualcuno poi se la ricorderà e mi prenderà in giro per qualche tempo ma intanto abbiamo dato un'indicazione utile anche grazie al generale dell'esercito americano direi che a questo punto siamo pronti per lo stacco pubblicitario delle 13.30 che anticipiamo leggermente anzi no sentiamo ancora una chiamata pronto? Sì buongiorno a lei buongiorno mi riferivo alla normativa regionale che è stata emanata ieri sull'obbligo di indossare le mascherine e i guanti quanto si entrano in supermercati oppure nelle farmacie allora volevo riferire a questo fatto che mi è successo proprio ieri quando sono entrato in supermercato devo dire che il supermercato in cui vado una volta a settimana sono veramente rispettosi nel seguire tutte le normative vigenti sono rimasti invece un po' alibita devo dire che è poco dire alibita quando sono entrato in farmacia perché sono entrato in farmacia rispettando la fila in quanto facevano entrare una persona alla volta e quando mi sono trovata diciamo davanti al banco c'era la la dottoressa c'erano due una aveva i guanti e la mascherina la dottoressa che mi ha servito era senza mascherina senza guanti va bene ho detto c'è il vetro che insomma era anche anche se il vetro era molto basso il divisorio però quello che mi è sconcertato è quando cercavo un prodotto su un scaffale adiacente la dottoressa è venuta fuori dalla sua postazione e con un salanzo proprio si è avvicinata non dico a mezzo metro ma proprio quasi attaccata a me adesso io non so se queste normative comprendono anche che i farmacisti dovrebbero usare una certa cautela con i clienti certo che devono usare una certa cautela il problema è che anche loro alle volte non hanno più le mascherine quindi speriamo arrivino ovviamente per tutti ecco perché il fatto anche delle mascherine appunto stiamo tendendo anch'io perché nel mio rione dove abito non c'è mi condomini vicino non sono ancora arrivate non sono ancora arrivate io per fortuna due giorni fa sono riuscito a procurarmi una tramite mia figlia che l'ha trovata ecco e me l'ha portata però sono rimasto un po' diciamo sconcertata di questo comportamento ho detto vabbè insomma non penso che in farmacia adottino cioè che sia stato un comportamento diciamo tra virgolette normale in questa situazione certo signora la ringrazio per la chiamata la ringrazio per la segnalazione corretta anche la sua segnalazione allora sto provando a fare ancora una variante perché giustamente uno dice però se io a casa ho solo gli elastici piccoli come faccio? cioè quelli che praticamente ho in mano io in questo momento sto tentando una variante bis cioè per dire che anche se come dire pur non uscendo posso riuscire comunque a risolvere il problema prima di uscire vediamo se riesce allora sempre la solita piegatura sempre la solita caramella avendo cura di lasciare l'elastico agganciato piccolo verso il basso quindi vado a formare di nuovo questa nostra caramella con la parte agganciata dell'elastico piccolo verso il basso che dovrebbe poi andare ad agganciare le orecchie se tutto andrà se tutto andrà bene quindi faccio la piegatura la piegatura finale ovviamente questa è una mascherina abbastanza grossa quindi abbastanza importante vediamo se ce la faccio così eccoci qua allora una è andata con gli occhiali è dura e l'altra è andata quindi diciamo così questa dovrebbe essere riuscendo poi ad agganciare bene dietro eccoci qua la mascherina a variante stabile così insomma con quello che avete in casa quantomeno qualcosa riuscite a fare ecco così ci abbiamo provato anche come dire con un po' con il sorriso se volete l'indicazione migliore è quella del generale dell'esercito americano che vi faccio rivedere così non pensate che ho perso completamente la testa anche se ci siamo abbastanza vicino Guido rifacciamo vedere quelli bravi dai l'altra e quindi il generale ce l'ha fatta ce l'abbiamo fatta anche noi in una versione e anche noi nell'altra che forse era ancora più era ancora più riuscita e ancora più facile quindi se non avete la mascherina che tra l'altro arriva sta arrivando in alcune vie di gretta in questo momento e dovete uscire a fare la spesa vi attrezzate con un foulard con una semplice con una semplice sciarpa piuttosto che con una maglietta in qualche modo si riesce a farla pubblicità e poi c'è Laura Bucarella Buon pomeriggio a tutti e bentornati in diretta con la nostra diretta straordinaria sull'emergenza coronavirus e su tutte le misure adottate per farvi fronte e allora ricominciamo questa diretta prendo il testimone da Marco Stabile e ci colleghiamo subito in videochiamata con il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint perché sono state tante anche nella prima parte di questa nostra trasmissione le richieste proprio di informazioni di delucidazioni su quali sono le misure insomma previste a Monfalcone tante le richieste di informazioni davvero anche da questa città quindi buongiorno buon pomeriggio al sindaco Anna Maria Cisint buongiorno buongiorno a voi e ai telespettatori grazie per questo collegamento allora volevo chiederle innanzitutto ci sono state varie richieste questa mattina ad esempio mi viene in mente la prima le mascherine come funziona la distribuzione delle mascherine a Monfalcone perché abbiamo parlato diffusamente a Pietrieste però a Monfalcone forse non è stato ancora ben chiarito allora noi te le dirò io cerco di fare un po' di informazione direttamente ho illustrato abbastanza chiaramente sempre anche con delle dirette facebook però grazie per il servizio che fa perché è preziosissimo dunque noi abbiamo ricevuto circa 3500 mascherine 1700 impacchettate diciamo e abbiamo comprato a nostra volta più o meno altrettante abbiamo distribuito 7000 e circa 50 mascherine complessivamente e in due giorni l'abbiamo fatto grazie al bel lavoro della protezione civile e delle nostre associazioni di volontariato ma anche con un affidamento per garantire anche la sicurezza delle persone affinché non ha preso la porta diciamo in maniera così anche senza troppi controlli e è andata molto bene la cosa siamo riusciti a come dire consegnarle tutte e abbiamo scelto il criterio degli ultra 75 anni ovvero noi abbiamo verificato quanti nuclei familiari ci fossero con almeno un componente all'interno del nucleo di persone con più di 75 anni e abbiamo rifugnuto in tutta Monfalcone con due mascherine quelle della protezione civile regionale e quelle che noi abbiamo acquistato qui sostanzialmente circa più o meno 7000 appunto e 50 mascherine costitivamente tutta la realtà della nostra città e abbiamo anche spiegato che nessuna è sterile e che tutte devono essere logicamente dopo l'utilizzo che può avvenire per 3-4 giorni e da istruzioni della protezione civile e sanificate e andando nella distribuzione tutti gli dovremmo riottenerne alcune mi pare che dovrebbero arrivare altre 1500 acquisteremo anche in questo caso altre mascherine e poi sempre chirurgiche e poi provvederemo con la stessa modalità sempre in giornata o nel giorno successivo a consegnarle andando a scendere con l'età quindi se adesso abbiamo consegnato a tutti gli ultra 70-50 capito nei nuclei familiari arriveremo ai 70 anni eccetera poche tutte le persone che hanno che sono immunodepresse oppure che hanno dei problemi oncologici oppure che hanno dei problemi in ogni caso anche di salute abbiamo un budget di mascherine che abbiamo acquistato direttamente come comune e che gratuitamente noi diciamo regaliamo a queste persone che sono in difficoltà questo per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine nelle case che appunto è durata due giorni e è andata molto bene devo dire invece questa mattina seguito anche dell'ordinanza del presidente Febbriga abbiamo valutato di regalare ai supermercati perché riteniamo che sia una scelta molto responsabile quella di immaginare che all'interno dei supermercati l'unica sottolineo persona che deve entrare nel nucleo familiare sia protetta in qualche modo con un fularo oppure con un'altra modalità ma siccome abbiamo ricevuto nei giorni scorsi quelle mascherine che erano state un po' nella polemica della Lombardia e la protezione civile nazionale quelle bianche che però come mi ha detto anche l'ingegner Aristei che ho contattato questa mattina sono comunque molto non sono diciamo la stregua delle mascherine chirurgiche però sicuramente sono più utili di una sciarpa o di un'altra diciamo copertura di questo tipo di un'altra protezione noi oggi le distribuiamo già stamattina infatti sono appena ritornata le stiamo distribuendo 4.000 ai supermercati cosicché abbiamo concordato con i gestori dei supermercati che appunto le nostre mascherine queste bianche vengano regalate a ciascuno alla persona che entra assieme ai guanti che sono quelli del pane della verdura insomma chiarissimo quindi anche su questi sono attrezzati perché guarda riteniamo che questa probabilmente sarà anche la strada del futuro quando si riaprirà è meglio che stiamo tutti molto attenti perché altrimenti il contagio forse sarà facile che possa ripartire infatti quindi è meglio farci trovare preparati da questo punto di vista insomma approfittare di questo periodo in cui insomma dobbiamo stare in quarantena e prepararci al dopo anche sperabilmente sì infatti infatti ma poi anche perché effettivamente nei supermercati è vero che noi siamo andati anche a fare qualche controllo anche stamattina c'era parecchia gente ed è vero che tutti tentano di tenere le distanze però ovviamente all'interno di una corsia non è sempre semplice tra l'altro abbiamo verificato che nei supermercati comunque c'è rispetto sia della distanza sociale prima di entrare che è anche quella dell'utilizzo di quei prodotti che servono un po' anche alla sanificazione delle mani eccetera quindi si sono tutti tutt'apputati anche la disponibilità dei guanti questa mattina non c'è stata difficoltà a verificarla ecco quindi questa è la novità anche noi da questa mattina nei supermercati a Montalcone abbiamo pensato che può essere utile e martedì ne arriveranno altre di questo tipo e appunto continueremo a regalarle ai supermercati ma anche ai negozi che sono magari quelli un po' più piccoli soprattutto dove per frutta e verdura devi entrare magari e toccare anche certo più vicino nell'acquisto dei beni ecco un'altra cosa che abbiamo fatto partire ieri noi abbiamo ricevuto per quello che definiamo il credito alimentare i buoni insomma Montalcone ha ricevuto 151 mila io ho sottolineato che è veramente poco e lo so bene che tutti non lo chiederanno però comunque il pro capite è di 5,2 euro che non è assolutamente sufficiente anche perché il fabbisogno è molto largo ieri è possibile già questa mattina alle 11 erano arrivate 165 domande ecco è possibile accedere visto che ci sono tanti anche montalconesi che vi stanno ascoltando che vi stanno guardando lo dico è possibile dal portale del comune accedere al link e dopo semplicemente da lì senza dover venire che si esca per evitare che si esca ma noi abbiamo anche mantenuto chiusi gli uffici frottopi tra l'altro e tanta scrive le quattro cose che sono richieste cioè i dati anagrafici se hai chiuso il negozio se sei un dipendente di quel posto se hai chiuso la tua attività artigianale oppure anche se fai parte comunque di tutti quelli che hanno avuto in qualche modo da rimetterci da questa situazione perché noi qua abbiamo tutte le dite dell'indotto anche che ancora hanno ricevuto 0 euro per la cassa interazione quindi tutte queste persone possono fare la domanda e con un click inviarla già questa mattina la dottoressa Pessari che è la persona che se ne occupa stava facendo una valutazione e noi già lunedì cominceremo a rispondere e poi da venerdì prossimo adesso ci sarà la possibilità di acquistare ma da venerdì anche di avere le card ricaricabili che poi potranno utilizzate anche successivamente ecco con questa modalità penso che senza uscire ci sarà la possibilità per molti di avere dei benefici non per tantissimi perché stimiamo circa in 2500 le possibili domande che potranno arrivare nel periodo chiarissimo quindi insomma più di quello che è possibile per il momento soddisfare insomma come richieste perché consideri certo è meglio qualcosa che piuttosto che niente certo noi comunque abbiamo attivato un servizio cioè da prima non è che abbiamo aspettato questi soldi qua per aiutare le persone avevamo già attivato un servizio che è quello dell'ambito che sta erogando e portando delle spese a chi ne ha bisogno già questo avviene da molto dagli inizi di gennaio di marzo e poi anche abbiamo un accordo con l'emporio con il nostro emporio che è una specie di banco alimentare e attraverso la protezione civile tutti quelli che fanno delle donazioni all'e-bank riportato sul nostro portale noi acquistiamo alimenti oppure portiamo comunque le spese e attraverso l'emporio chi ne ha bisogno va a prendere diciamo ad acquistare gli alimenti che sono principalmente quelli essenziali chiarissimo eravamo già abbondantemente mossi chiaro le chiedo ancora sindaco come stanno andando i controlli continuano sul territorio di Monfalcone i monfalconesi si comportano bene come come sta andando sono bravissimi è chiaro che sono bravissimi nel senso che stanno si vede insomma che c'è un tentativo di stare a casa da parte di molti quasi tutti poi c'è una piccola frangia per modi riducibili ieri abbiamo dovuto purtroppo sanzionare premesso che a me dispiace molto dover dire logicamente guardate a casa quando incontro qualcuno e io stessa mi muovo solo per andare al lavoro e ovviamente a fare le cose obbligatorie diciamo proprio però noi i controlli li facciamo però è vero che c'è ancora una piccola tranche di persone che non ce la fanno ma che invece devono riuscire a collaborare perché è fondamentale che evitiamo il contagio ieri abbiamo sanzionato un signore che voleva andare dal barbiere in motorino l'altro giorno sul canale Valentinis cinque bengalesi che tra l'altro erano anche tutti vicini l'uno all'altro due persone che arrivano dalla Romania e lavorano in fincappieri e che non sono tornate a casa insomma ci sono comunque ancora delle persone io avevo fatto 88 controlli di questi circa 30 sanzioni capito aggiungo un aspetto che però è molto importante capire che noi siamo consapevoli del dramma economico che si sta vivendo però in questo momento bisogna fermare il contagio che è il primo pensiero quello della salute e allora stare a casa è fondamentale come anche attenzione a far ripartire troppe aziende che poi creano soprattutto nella nostra realtà non soltanto una presenza all'interno dell'azienda e posso dirle da verifiche che stiamo facendo anche con l'azienda sanitaria che tutti fincanti eri tutte le aziende si sono mosse moltissimo per creare ottime come dire organizzazioni affinché chi entra abbia delle regolamentazioni precise garantendo la distanza sociale garantendo la presenza con mascherine quindi per la sicurezza ma per le maiconese c'è un tema che non è solo all'interno delle aziende perché se domani Fincantieri riapre e mi arrivano 6.000 7.000 persone che oggi non sono 5.000 che non sono qui arrivano da altri luoghi non è garantita la sicurezza nemmeno della città per cui la nostra convinzione è che in questo momento bisogna ancora fare tenere chiuse determinate realtà chiarissima Chiarissima Sindaco Cisint la ringraziamo per questo collegamento e sentiamoci presto appunto per le prossime informazioni le prossime novità da Monfalcone grazie grazie buon pomeriggio a lei grazie grazie buona giornata allora queste le parole appunto del Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint che ci ha spiegato un pochino tutti i provvedimenti e le richieste che arrivano proprio da quella città allora continuiamo la nostra diretta straordinaria andando a vedere un po' di notizie l'avete già visto insomma questa mattina il tema del giorno è un po' sicuramente la nuova ordinanza l'obbligo di coprire naso bocca e mani durante la spesa l'abbiamo detto più volte poi più tardi vedremo anche un servizio con i collegamenti che ha fatto questa mattina Gianluca Paladin da alcuni supermercati in cui ha fatto vedere appunto gli effetti insomma di questa nuova ordinanza quindi da oggi sarà obbligatorio coprirsi naso bocca e mani all'interno dei mercati ed esercizi commerciali di beni alimentari Massimiliano Fedriga aggiunge una nuova ordinanza ancora più restrittiva nella guerra contro il coronavirus i numeri in regione sono sotto controllo il governatore non fa un solo passo indietro in Friuli Venezia Giulia non si può correre non si può passeggiare ora si dovrà pure indossare al momento della spesa guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca un obbligo sia per il negoziante che per il cliente giunta a scadenza la precedente ordinanza Federiga quindi ne ha firmato ieri un'altra valida fino al 13 aprile giorno di Pasquetta con regole più rigide la novità principale è appunto la protezione per le parti del corpo più a rischio di trasmissione del contagio non tutti però hanno guanti e mascherine e nel primo caso spetterà a supermercati e piccoli negozi di alimentari metterli a disposizione sia al personale sia ai clienti per questi ultimi basteranno quelli che solitamente si usano per impacchettare frutta e verdura le mascherine invece i cittadini se la dovranno portare da casa e se non ce l'hanno nell'attesa che l'operazione di distribuzione della protezione civile possa essere completata visto il ritmo di produzione i tempi non saranno brevissimi la regione fa sapere che si potrà provvedere con fazzoletti sciarpe sciagli anche fulare copricollo aggiunge Fedriga l'importante sarà coprire il naso e la bocca chi ha la mascherina la usi ma sappiamo che ci sono difficoltà di approvvigionamento ha spiegato quello che conta è prevedere un piccolo accorgimento che anche a detta dei clinici può consentire di limitare la diffusione del virus tanto più in negozi dove vengono venduti beni alimentari che vanno assolutamente protetti queste le novità appunto previste dalla nuova ordinanza ancora più restrittiva le abbiamo ripetute più volte le ripetiamo appunto a beneficio di chi si fosse magari messo in ascolto soltanto ora un'altra novità informa la regione l'introduzione di misure anti assembramento negli stessi esercizi di generi alimentari e nei mercati all'aperto quelle attività potranno continuare a operare solo nei comuni nei quali siano state adottate dai sindaci precise disposizioni la perimetrazione dei mercati la presenza di un varco d'accesso separato da quello d'uscita il contingentamento delle presenze al fine di evitare contatti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno un metro l'obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore e da oggi appunto l'uso di guanti protezione naso bocca sia da parte di chi vende che di chi compra e il resto dell'ordinanza ribadisce le restrizioni precedenti quindi gli spostamenti della propria abitazione sempre con un modulo di autocertificazione in tasca sono consentiti solo per motivi di lavoro salute e necessità ed è dunque vietato svolgere all'aperto in luoghi pubblici attività motorie o sportive passeggiate anche in solitaria non siamo ovviamente contenti commenta il presidente ma lo riteniamo importantissimo per tutelare la salute di tutti sempre molto limitati rimangono i negozi aperti con possibilità di accesso all'interno dei locali per un solo componente del nucleo familiare salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone confermati i servizi di consegna ad omicidio il provvedimento ufficializza anche la chiusura domenicale domani e nel giorno di Pasqua di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura a eccezione delle farmacie delle parafarmacie e delle edicole e degli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale e presso porti e interporti quindi queste le novità si tratta di un altro sforzo chiesto alla popolazione a riassunto Fedriga poi magari lo risentiremo in cui proprio l'impegno che ci stanno mettendo tutti sta dando buoni risultati in termini di riduzione del contagio questo quindi l'indirizzo della nostra regione andiamo a vedere le notizie nazionali siamo sul sito di Repubblica coronavirus il commissario Arcuri battaglia non vinta non si torna alla normalità va anche lui insomma in questa direzione la sua dichiarazione va in questa direzione allora stiamo solo cominciando a contenere la dimensione e rilevante queste le sue parole il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri non usa giri di parole per individuare il giusto atteggiamento dei cittadini in questa fase dell'epidemia quasi in contemporanea con l'analogo appello lanciato dal ministro della salute Roberto Speranza la nostra battaglia contro il coronavirus ha detto il commissario prosegue senza sosta dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo che abbiamo costretto l'avversario in un angolo e stiamo per avere sopravvento gli indicatori ci dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata ma la sua dimensione seppure non uniforme è ancora rilevante bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare i comportamenti e ancora aggiunge non è il momento di pensare alla normalizzazione e ai calendari continuiamo come abbiamo fatto finora questo è il suo discorso ognuno ha aggiunto deve fare la sua parte con lo stesso civismo che abbiamo dimostrato di avere alcune immagini diffuse sui social quelle vie piene di persone nonostante i divieti che abbiamo visto su vari giornali su vari siti non vanno prese ad esempio vanno deplorate dobbiamo fare di tutto per evitare che i sacrifici di tutti noi vengano vanificati nel suo punto stampa il commissario dell'emergenza ha fatto il punto della situazione dei dispositivi sanitari essenziali nelle terapie intensive e in quelle di protezione abbiamo distribuito a ieri sera ha detto 1679 ventilatori alle regioni 5 giorni fa erano 1280 oggi ne distribuiremo altri 133 questi i numeri per quanto riguarda appunto quest'altro importante dispositivo che sono i ventilatori allora ora volevo leggere ancora qualche mail che ci arriva da parte dei nostri telespettatori allora Serena scrive complimenti alla signora e al generale per come hanno preparato la mascherina lo avete visto poco fa anche in compagnia di Marco Stabile bravo anche lui stesso a realizzare le mascherine con mezzi insomma improvvisati se non si hanno gli elastici si possono usare gli elastici per capelli ci scrive Serena grazie a lei allora poi ancora Davide invece dice era più bella era più bella quella de carta noi italiani siamo più bravi va bene questa è la sua opinione ancora vorrei ricordare ci scrive invece dunque Marina credo sì vorrei ricordare che nel kit di pronto soccorso in dotazione alle automobili c'è anche la mascherina questa l'avviso insomma di Marina ancora buongiorno desidero sapere quando verrà ripristinata la ringhiera che è stata tagliata oltre un anno fa all'incrocio tra strada per l'ongera e via comici che ora che hanno anche tagliato l'ippocastano che faceva da sparti traffico questo ci chiede la signora Serena gireremo questa domanda a chi di dovere dunque buongiorno ci scrive Barbara buongiorno signora Laura da quello che ha letto prima Marco Stabile domani non ci sarà la benedizione degli olivi verrà fatta finita la pandemia oppure verranno benedetti distribuiti in un secondo tempo allora questo non glielo so dire in che modo ci si organizza però se crede insomma le rileggo il comunicato ufficiale della curia vescovile allora in occasione della domenica delle palme la curia vescovile ricorda i fedeli che quest'anno nel rispetto delle attuali norme per il contenimento del covid-19 la celebrazione liturgica si terrà senza la benedizione degli olivi in un orario unico con le porte della chiesa chiuse e senza il concorso di popolo quindi senza persone insomma ad assistervi anche la distribuzione ecco anche la distribuzione dei rami d'ulivo che tradizionalmente avveniva alle porte della chiesa o nelle sue vicinanze non potrà essere fatta pertanto si raccomanda la massima attenzione verso eventuali venditori di olivi presenti davanti alle chiese o nelle vie adiacenti e si invitano i fedeli a non prendere rami a non rilasciare offerte o corrispettivi la diocesi e le parrocchie non hanno dato alcuna autorizzazione a tali iniziative inoltre si informa che i parroci sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria tali illeciti perché di illeciti proprio si tratta quindi questo è il comunicato ufficiale per quanto riguarda eventuali future benedizioni e distribuzioni ci informeremo e vi faremo sapere quanto prima per il momento comunque non c'è non c'è nulla allora ci scrive Daniela dice buongiorno cara Laura scusa se scrivo una cosa spiacevole allora per favore potreste far presente che sputare per strada è pericoloso l'ho visto fare stamattina da un signore che si è spostato la mascherina sputato rumorosamente sul marciapiede io ero a 200 metri da casa col cane il sacchetto chiedo scusa per il tema grazie Daniela insomma anche questa è una segnalazione che ci sentiamo di ritrasmettere grazie per avercela segnalata insomma un invito non sputate per terra anche questo potrebbe essere comunque un comportamento particolarmente a rischio fra l'altro allora andiamo ancora avanti ci sono anche le notizie dalla giunta regionale che non riguardano strettamente il coronavirus ma appunto la giunta regionale come le altre amministrazioni stanno anche lavorando per per il dopo per l'ordinaria amministrazione per pensare a una ripresa ad esempio per quella scolastica allora c'è la notizia di oggi la giunta regionale su proposta dell'assessore alle infrastrutture Graziano Pizzimenti è aderito al protocollo d'intesa con l'agenzia per la coesione territoriale i ministeri dell'istruzione delle infrastrutture e trasporti per favorire e potenziare l'attuazione del progetto task force edilizia scolastica volto a supportare e accompagnare gli enti locali negli interventi di edilizia scolastica con delibera la regione con la delibera la regione aderisce al nuovo protocollo interistituzionale 2020-2023 insieme a tutte le regioni d'Italia per poter continuare a usufruire a titolo gratuito della collaborazione della TFS ha chiarito Pizzimenti ricordando come la task force avviata dall'agenzia per la coesione territoriale nel 2014 come progetto pilota mette in campo attività di presidio e affiancamento agli enti locali beneficiari di finanziamenti per interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica le attività appunto vanno dall'assistenza nei procedimenti degli enti locali e supporto agli uffici tecnici in particolare sugli applicativi informatici e diventeranno ancora più preziose nel momento in cui la regione transiterà dall'applicativo anagrafo edilizia scolastica al nuovo applicativo Ares 2.0 sono dettagli tecnici perché i qualificati tecnici della task force potranno insegnare l'utilizzo del software e fare formazione ai comuni questa è una buona notizia insomma di collaborazione allora sempre dalla regione appunto abbiamo già letto all'inizio questa novità lo ribadiamo non ci stancheremo oggi di ribadirla dell'obbligo di mascherine o comunque di copertura del naso e della bocca e di guanti per fare la spesa per andare ad acquistare generi alimentari e il nostro Gianluca Paladin questa mattina è andato in alcuni supermercati proprio per verificare il rispetto di questa nuova ordinanza allora potremmo rivedere il servizio l'estratto diciamo così dai suoi collegamenti in diretta di questa mattina proprio dai supermercati che alcuni alcuni dei quali fra l'altro distribuivano loro stessi i guanti all'esterno proprio per consentire agli acquirenti ai clienti di entrare e fare la spesa non so se è pronto il servizio nel frattempo sì allora ancora vado a vedere ancora qualche altra notizia nel frattempo abbiamo il tempo naturalmente alla regia di poterlo dare abbiamo già data questa notizia però la ribadiamo perché è una notizia di cronaca che si lega in qualche modo al coronavirus in molti modi allora passeggiava tranquillamente per strada senza nemmeno indossare la mascherina oppure un altro dispositivo anticontaminazione nonostante fosse risultato positivo al coronavirus a sorprendere l'uomo che ora dovrà rispondere di procurata l'epidemia colposa reato che prevede la reclusione da 3 a 12 anni è stata la polizia locale nel corso di un controllo tutto iniziato qualche giorno fa quando un giovane è stato fermato dai vigili mentre circolava nonostante i divieti il giovane ha spiegato che doveva recapitare la spesa ai genitori alla nonna dalla verifica dell'autocertificazione però è emerso che la residenza dichiarata dal ragazzo non era veritiera molto probabilmente confusa con l'attuale domicilio convocato per i chiarimenti i vigili hanno appurato che il giovane si era allontanato dalla residenza anagrafica poiché i genitori si trovavano in quarantena tuttavia il padre non si trovava nella lista delle persone sottoposte a questo vincolo bensì in quella dei positivi al coronavirus così gli operatori del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale hanno effettuato un controllo anche al domicilio del padre sorprendendolo a passeggiare tranquillamente sulla pubblica via senza utilizzare alcuna mascherina o altro dispositivo anticontaminazione intimato all'uomo di rientrare in casa e messo al corrente del reato commesso questi minimizzava l'accaduto dovrà rispondere di procurata epidemia colposa che prevede appunto la reclusione come detto da 3 a 12 anni allora vedo pronto il servizio l'estratto dei servizi appunto in diretta di questa mattina di Gianluca Paladin fuori dai supermercati rivediamoli in via Flavia l'Eurospar alle mie spalle con la consueta fila di persone pronte per fare la spesa come potete osservare dalle immagini di Enzo Iannacone praticamente quasi tutti tutti hanno mascherine quasi tutti hanno i guanti quindi insomma sono più che organizzate le persone per riuscire a rispettare l'ordinanza che ha illustrato anche Fedriga proprio ieri una giornata solleggiata quindi il sabato che precede la domenica quindi di conseguenza sappiamo benissimo che domani sarà tutto chiuso perciò chi fa la spesa magari la va a fare anche perché come ogni sabato per la chiusura del giorno dopo ricordiamo che domenica è tutto completamente chiuso a parte alcune farmacie di conseguenza e le edicole la mattina di conseguenza insomma motivi per fare la spesa ulteriori non ce ne sono una fila di circa una 25 persone saranno in questo momento là in fondo sempre in via Flavia tra l'altro c'è il kebab che l'altro giorno ha contribuito anche portando a noi qualcosa in redazione rinnoviamo i ringraziamenti come è doveroso che sia ovviamente giornata ripeto con un buon afflusso di gente per quanto riguarda la spesa c'è una buona fila poi sono tutti organizzati c'è il controllore all'ingresso che si occupa di assicurarsi che il flusso di persone sia ordinato e che non entrino più di una o due persone alla volta come sapete bisogna sempre aspettare che alcuni clienti escano e solo dopo possono entrare i successivi la gente possiede praticamente i guanti ce li hanno quasi tutti così come le mascherine solamente qualche sporadico sporadicamente si nota qualcuno senza nulla ma insomma poi sappiamo che anche all'interno dei supermercati si possono usare tranquillamente i guanti che vengono usati per raccogliere frutta e verdura nel reparto e possiamo indossarli su tutte e due le mani e continuare a fare la spesa con quei guanti di plastica che poi subito fuori dal supermercato buttiamo tranquillamente quindi comunque i supermercati sono di per sé già organizzati in questo chi non dovesse possedere dei guanti entrando nell'esercizio commerciale li può comunque trovare all'interno oltre che poi poterli propriamente acquistare distribuiscono i guanti cioè fuori l'ha detto come potete vedere dalle immagini di Enzo Iannacone ha in mano la confezione classica di guanti trasparenti di quelli che si utilizzano comunemente in supermercato l'ha portata fuori e quando nota delle persone che non li possiedono addosso li distribuisce lui personalmente oppure li si può chiedere appunto già l'ingresso nel momento in cui uno sta per varcare le porte automatiche del supermercato quindi gli stessi dipendenti dell'esercizio commerciale si sono resi disponibili a svolgere questo servizio fuori come potete vedere perciò molta molta organizzazione prima abbiamo visto anche fare questo su e giù da parte dell'addetto alla distribuzione che appunto andava a dare i guanti a chi non li possedeva tutti quanti invece bene o male arrivano con le mascherine chi non ce l'ha la tira fuori magari nel momento in cui deve entrare al supermercato quindi alla fine tutti più o meno ne sono muniti qui in via Valmaura il parcheggio tra l'altro è pieno ma comunque le persone che vengono a fare la spesa non sono tantissime almeno non per volta sono abbastanza ordinate sono sicuramente persone che poi entrano svolgono la spesa in maniera celere in maniera veloce e poi escono c'è un via vai continuo ma come potete vedere è tutto molto ben organizzato viene anche rispettata abbastanza la distanza di sicurezza tra persona a persona quindi comunque i cittadini sono i primi a collaborare giustamente una situazione tutto sommato tranquilla mi piaceva segnalare appunto questo Marco che c'è fuori l'addetto alla distribuzione dei guanti e questo è un segnale comunque di organizzazione che secondo me anche per quanto possa sembrare poco non va non va trascurato bravissimo Enzo che ci fa vedere che ci fa vedere molto bene quello che poc'anzi vi avevo annunciato è che tu adesso alle mie spalle hai notato la distribuzione delle mascherine scusate la distribuzione dei guanti proprio per fornirli a chi non li possiede quindi super organizzazione da parte di coloro che si occupano anche della security all'interno dell'esercizio commerciale una situazione che fa piacere sicuramente che fa piacere vedere questa è la situazione di questa mattina o nel primo pomeriggio appunto di trovata da Gianluca Paladin in due supermercati cittadini quindi il rispetto della nuova ordinanza allora ci arrivano anche richieste particolari di ringraziamento in particolare Davide ci scrive buongiorno Laura per piacere fai un grande ringraziamento agli alpini e alla protezione civile che hanno appena portato genere alimentari e comprensorio cacciaburlo di via Soncini che ringraziano grazie grazie davvero agli alpini anche loro sono in prima linea impegnati ad aiutare come sempre fanno insomma come corpo andiamo avanti e parliamo di controlli ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi anche in compagnia del prefetto del prefetto Valenti e ieri il prefetto ha annunciato la stretta sui controlli allora qui lo prendiamo da Trieste prima insomma ne abbiamo parlato molto anche noi in arrivo maggiori controlli sul territorio per reprimere le violazioni al decreto anticontagio da Covid-19 a breve il presidente Federico è già emanata insomma questa nuova ordinanza intanto appunto il questore di Trieste che abbiamo invece sentito questa mattina ad intesa con i comandi provinciali dell'arma dei carabinieri della Guardia di Finanza con le polizie locali ha immediatamente predisposto un piano per incrementare la presenza in strada delle pattuglie con il chiaro indirizzo di contrastare condotte non regolari in quest'ottica saranno anche attentamente vagliate le autocertificazioni prodotte dai cittadini attraverso accertamenti posteriori sulla veridicità delle stesse in proposito si ricorda non ci stanchiamo di ricordarlo appunto che le false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull'identità o sulla qualità personale sono pulite ai sensi degli articoli 495 e 496 del codice penale con pene che possono arrivare fino a sei anni il prefetto Valenti non è il momento di rilassarsi ha dichiarato non è il momento di assumere comportamenti che possono compromettere tutti i sacrifici fino ad ora fatti è una fase estremamente delicata della lotta contro la diffusione della pandemia vi chiedo ancora più perseveranza e responsabilità sono ben consapevole di quanto sia difficile per tutti noi specie per le famiglie su cui gravano ulteriori problemi ma è doveroso non mollare non lasciarsi andare soprattutto per onorare e rispettare il lavoro di quanti a rischio della propria vita sono in prima linea nell'azione di contrasto dell'epidemia queste le parole appunto del prefetto Valenti in tema di controlli il Viminale il Ministero dell'Interno ha diffuso i dati di ieri dei controlli proprio a livello nazionale li leggiamo dall'Ansa ieri le forze di polizia hanno controllato 254.959 persone e 93.064 esercizi commerciali e attività le persone sanzionate per i divieti sugli spostamenti sono state 8.187 quelle denunciate per false attestazioni nell'autodichiarazione sono state 83 e quelle denunciate per violazione della quarantena 30 i titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 136 e 29 i provvedimenti di chiusura delle attività lo indica il Viminale dall'11 marzo data di inizio delle prescrizioni sono state controllate complessivamente 4.630.583 persone e 2.040.055 esercizi commerciali i denunciati sono stati oltre 173.000 quelli per violata quarantena negli ultimi nove giorni sono stati 384 rischiano rischiano il carcere da 1 a 4 anni per aver attentato alla salute degli altri cittadini e poi abbiamo visto anche il caso proprio di un positivo di una persona risultata positiva al covid-19 e che faceva proprio la passeggiata senza senza precauzioni passeggiata che assolutamente non poteva fare neanche nel caso in cui appunto non fosse stato positivo allora sono 4.424 invece le persone controllate ieri in Friuli Venezia Giulia dalle forze dell'ordine questi controlli quindi a livello regionale nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle disposizioni per il contenimento del coronavirus di queste 202 sono state sanzionate per inosservanza un'altra persona invece è stata denunciata per essere uscita di casa pur essendo positiva al covid-19 questo è il caso appunto di cui vi abbiamo già parlato lo rilevano i dati diffusi dalla prefettura di Trieste si registrano inoltre una denuncia per falso e 14 per altri reati le forze dell'ordine hanno controllato ieri anche 1511 esercizi commerciali tra questi un'attività è stata sanzionata per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità quindi questo è il bilancio consueto il bilancio che arriva più o meno appunto all'ora di pranzo da parte delle forze dell'ordine ce le gira appunto le raccoglie le gira la prefettura di Trieste per tutta la regione i controlli ci sono vengono fatti e quindi fate particolare attenzione rispettate tutti i divieti anche per non incorrere non soltanto ma anche per non incorrere in sanzioni possibili ancora aumenta il bilancio degli operatori sanitari deceduti per covid-19 oggi è mancato un medico di famiglia Giovanni Battista Tomasino di 61 anni originario di Castellammare di Stabia ne dà notizia la federazione nazionale dei medici di famiglia quindi un altro medico deceduto il bilancio sale purtroppo a 78 78 medici per coronavirus morti appunto in questo periodo di epidemia in Italia ancora andiamo a vedere altre notizie fra poco poi rivedremo invece tornando alle funzioni religiose ricordando appunto che le modalità insomma con cui domani ci sarà la messa della Domenica delle Palme è a porte chiuse quindi non ci sarà la benedizione la distribuzione degli olivi rivedremo invece il messaggio di questa mattina del Papa di cui trasmettiamo ogni giorno tranne proprio la Domenica la messa da Santa Marta fra poco lo rivedremo dicevo andiamo ancora a vedere altre notizie sull'Ansa nazionale c'è l'aggiornamento sul caos IMS e la Ministra Catalfo andrà in Parlamento a spiegare cosa è successo insomma sui disservizi ne abbiamo parlato molte volte nelle nostre dirette di questi disservizi di questi problemi soprattutto per accedere al sito per fare le richieste ad esempio dei 600 euro eccetera allora il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo riferirà in Parlamento con massima trasparenza sulla vicenda dei disservizi all'Inps nel giorno dell'avvio delle domande per le prestazioni previste dal decreto Cura Italia per affrontare l'emergenza coronavirus in riferimento alle dichiarazioni del Presidente dei Senatori d'Italia Viva Davide Faraone si legge in una nota il Ministero del Lavoro chiarisce che il Ministro Catalfo reputa doveroso chiarire di fronte al Parlamento circa i quesiti che le vengono posti e lo farà immediatamente dopo aver acquisito tutti gli elementi utili per garantire ai cittadini e agli eletti la massima trasparenza possibile questa l'ultima notizia appunto battuta dall'Ansa Nazionale aveva fatto ha fatto davvero scalpore insomma tutto il caos creatosi intorno a queste domande online e al sistema informatico che evidentemente non ha retto ancora andiamo a vedere altre altre notizie ci sono dunque ci sono anche le notizie insomma per così dire di abitudini che si stanno innescando così nelle persone si stanno instaurando per quanto riguarda il denaro allora la paura che le banconote possano trasmettere il coronavirus incrementerà i pagamenti digitali anche se i rischi di trasmissione del contagio sono minori rispetto a quelli nel digitare il PIN della carta che per essere sicura dovrebbe essere contactless lo afferma un paper della banca centrale delle banche centrali la BRI con sede a Basilea secondo cui l'aumento dell'uso del digitale potrebbe aprire un solco nell'accesso agli strumenti di pagamento e impattare negativamente sugli anziani e chi non ha un conto corrente un problema particolarmente sentito anche qui a Trieste dove appunto gli anziani o le persone che non hanno familiarità con i conti correnti e le procedure diciamo online sono davvero tanti allora come dicevo prima non so se pronto il servizio sul messaggio del Papa di questa mattina messaggio che quotidianamente da qualche giorno trasmettiamo in diretta proprio alle 7 meno 5 del mattino in diretta da Santa Marta da dove appunto il Papa Papa Francesco celebra la Santa Messa rivediamo il suo messaggio di oggi il Vangelo odierno il racconto dei sette dolori di Maria ha dato spunto a Papa Francesco per sottolineare ancora una volta il ruolo della Madonna nella vicenda di Gesù onorare la Madonna e dire questa è mia madre perché la mia madre e questo è il titolo che ha ricevuto di Gesù proprio lì il momento della croce i tuoi figli tu sei madre non la fata prima ministro o le ha dato titoli di funzionalità soltanto madre e poi gli atti degli apostoli la fa vedere in preghiera con gli apostoli come madre il Papa il Papa poi ha voluto ampliare il discorso in merito al concetto di madre riferendosi a Maria e all'intera chiesa nella maternalità della Madonna vediamo la maternità della chiesa che riceve tutti buoni e cattivi tutti oggi ci farà bene fermarci un po' e pensare al dolore e ai dolori della Madonna della nostra madre e come li ha portati come li ha portati bene con forza con pianto non era un pianto finto era proprio il cuore distrutto di dolore all'inizio della celebrazione a Santa Marta trasmessa in diretta da Telequattro alle 6.55 da lunedì al sabato il Papa si è soffermato sull'emergenza coronavirus guardando al futuro senza dimenticare nella preghiera proprio chi al futuro sta in qualche modo pensando c'è gente che da adesso incomincia a pensare il dopo il dopo la pandemia tutti i problemi che arriveranno problemi di povertà di lavoro di fame preghiamo per tutta la gente che aiuta oggi ma pensa anche nel domani per aiutarci a tutti noi queste le parole del Papa di Papa Francesco quest'oggi questo sabato allora andiamo ancora a leggere le vostre mail ci scrive un telespettatore credo si chiami Romano dice sono un settantenne che abita in zona tribunale non ho visto alba di mascherine ho telefonato ieri a 15 farmacie del centro dall'università fino a piazza San Giovanni nessuno ha mascherine e poi vogliono fare sanzioni ci scrive appunto Romano allora intanto arriveranno sicuramente anche a lei ci vuole pazienza perché appunto abbiamo spiegato più volte che le mascherine vengono distribuite in base alla suddivisione della città sulla base dell'ultimo censimento del censimento credo 2018 quindi la distribuzione non corrisponde esattamente ai rioni della città ma o alle circoscrizioni ma una suddivisione un po' un po' diversa e comunque piano piano a seconda della della popolosità insomma di queste zone e della presenza forte o meno di persone anziane oltre 75 anni vengono distribuite prioritariamente insomma nelle zone in cui ce ne sono di più e poi via via anche nelle altre zone comunque tutte verranno coperte in merito alle sanzioni sappiamo che vale anche una semplice sciarpa un foulard una copertura insomma un fazzoletto può andare bene comunque per fare la spesa quindi è questo l'obbligo insomma coprirsi naso e bocca quando si va a fare la spesa un'altra una telefonata la sentiamo subito pronto buongiorno pronto buon pomeriggio anzi Laura sono Diego buon pomeriggio Diego allora io intanto telefonavo per un invito insomma un invito a telequattro a prendere degli elastici un po' più seri così magari stabile farà delle mascherine più idonee va bene allora questo lo giriamo insomma chi si occupa della cancelleria ad avarino ad avarino ad avarino direttamente va bene glielo chiediamo al di là delle battute io volevo intanto anche pur non conoscendoli direttamente volevo fare un ringraziamento personale all'assessore Grilli perché devo dire che si vede che una persona che trasmette empatia molto una persona molto tranquilla molto dedita al suo lavoro è vero e vedo che quando parla di anziani quando parla di sociale ripeto pur non conoscendolo personalmente lo trovo un assessore molto adeguato il suo ruolo e quindi ripeto insomma un grazie a persone come lui che danno un aiuto concreto alle famiglie più bisognosi concordo Diego e poi un'ultima considerazione personale diciamo che così va fatta una riflessione una riflessione generale insomma l'invito alle persone a continuare a rimanere a casa perché appunto non si è ancora raggiunto questo lo dicono i dati scientifici l'apice di questa pandemia e quindi bisogna fare attenzione a non buttare al vento i sacrifici che si sono fatti dall'8 di marzo rimanendo a casa insomma e ritengo che sia opportuno tenere duro e cercare di dare il nostro contributo rimanendo a casa fermamente saldi alla propria poltrona un'ultimissima notazione di informazione di carattere personale che però può essere utile a tutti è quella di armarsi di molta pazienza io ad esempio in questi giorni ho dovuto ripresentare una domanda di naspide disoccupazione con decorrenza primo aprile bisogna avere tanta pazienza però per via telematica inviando una mail ho avuto riscontro dal patronato dal patronato della Willi in questo caso di via Polonio che mi ha ricontattato dopo un paio di giorni tramite il patronato sono riuscito a presentare la documentazione appunto relativa alla naspi con qualche difficoltà il patronato è riuscito a trasmetterla all'Inps che ha accettato la domanda e dopo un paio di giorni mi ha ritelefonato anzi mi ha ricontattato il centro per l'impiego che mi ha già fissato un colloquio telefonico sempre per via telematica ma poi successivamente telefonico per chiudere la pratica burocratica quindi anche se gli uffici sono chiusi e sono difficilmente contattabili ecco grazie per questa sua esperienza perché sono in tanti a chiederci ad avere appunto anche un atteggiamento magari di impazienza perché capiamo insomma anche il problema di una persona disoccupata che non ha insomma disponibilità e quindi capiamo anche la fretta a volte però ci fa piacere che lei ci testimoni che funziona insomma basta avere un po' di io ribadisco testimonio anche la mia impazienza personale perché ripeto un rientro in aspico in un assigno di disoccupazione e crea ansia alle persone ha creato ansia anche a me ma ripeto ci vuole tanta pazienza gli uffici non sono contattabili subito ma quando rispondono sono attivi e reagiscono e nonostante anche i problemi di accesso all'Inps le persone sono professionalmente preparate e riescono a risolvere le situazioni ci vuole solamente tanta tanta pazienza con questo vi saluto vi auguro un buon lavoro e saluto anche tutti i telespettatori buona giornata grazie Diego buon pomeriggio anche a lei buona giornata e allora dal ringraziamento all'assessore Griglia ci associamo fino all'invito a non rendere vano tutto lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso e anche all'invito ad avere pazienza quando si tratta appunto di procedure informatiche di uffici che lavorano in una modalità che magari finora non era mai stata adottata in modo così massiccio condividiamo insomma questa telefonata di Diego ora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria ci rivediamo subito dopo credo ancora con una telefonata fra poco